Sì, sì, però... Oddio, siamo in live! È partita! È partita! Vai! Ciao! Ciao, Michele! Ce l'abbiamo fatta! A caso! Con Michele che mangio! Perché sì! Allora, permettetemi di festeggiare. Ecco, per te. Bene, allora, ragazzi, visto che io sono una persona professionale, non facciamo le anomalie. Vi tolgo, rifacciamo, vai! Così, a caso, dai! 3, 2, 1, partiamo! Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e nonne! Io sono Di Hendry, Cinema98, e bentornati in una nuova puntata del Cinegiornale, in cui io stavo prendendo 27 infarti al minuto, dal momento che, per un'ora e mezza circa, se non di più, StreamYard è andato completamente a quel paese, perché stavano cercando di risolvere dei problemi legati a YouTube. Infatti, se andate a vedere la live del Buon Palo Innocenti, vedete che la sua ultima live si è interrotta improvvisamente. Michele non riusciva a creare la stanza, infatti era venuto a trovarci e potevate vedere un raro estratto del Furionda mentre cercava di sfogliarsi, approfittato del fatto che eravamo in Furionda. Quindi, che cosa meravigliosa! Benissimo! Avete aspettato con grande ansia, ma adesso buttiamoci! Ci vediamo un po' chi è che c'è qui. Ciao Andrea, gli ospiti! Ciao Lorenzo Palmas! Lo scorso weekend ho visto i Casagrande, il film di Netflix, è un mondo a parte, li ho dorati tantissimo. Ma quante film sui Casagrande fanno? Perché tu veramente li citi ogni volta, però mi fa piacere che tu abbia la passione per questi personaggi. E inoltre vedo Joker, Folliato, bravo ragazzo! Ciao a Linda Rigoni, quanti begli argomenti! Grazie cara! Ciao al caro Daniele6002, buonasera! Buonasera al caro Randomney was already took in! Buonasera, quanta professionalità sta... Stavolta è colpa di StreamYard, quindi Calamat non può dire un cazzo stasera! Ok? Benissimo! Poi, opening frizzantino, assolutamente mio caro Ellen Bone, mamma mia che trelle clamoroso, clamoroso non avevo chissà quelle aspettative, ma dopo aver visto sto trelle diventa per forza il mio film più attisoli quest'anno. Ah, vediamo già entusiasmo, anche da parte di Mr. VTube! E poi abbiamo Simone Rappisarda, signori, ma ciao caro, Axor, buonasera carissimo, ciao, ciao, ciao! Allora, sempre a dare la colpa agli altri, che vergogna... Oh, io sto parlando di StreamYard, StreamYard è un'entità, non è un'altra persona. Parlerete di Spiderman 4? No, non è tra gli argomenti di stasera, finché non ci saranno cose più concrete. Ok, allora, buonasera a tutti, ma cominciamo con i nostri cari ospiti, e cominciamo con una persona che è assolutamente felice di essere qui, che veramente non vedeva l'ora di esserci, non vedeva l'ora di partecipare, sto parlando del caro Kalamath. Ecco, benissimo. Salve. Ho accettato di venire qui, perché so già che tutto andrà in bacca a un certo punto, e voglio godermi lo spettacolo, non dalla bontà del mio animo. Io non sono di animo buono. Signor Kalamath, lei comincia a farmi paura. Meglio. Meglio essere temuti che amati. Ah, ecco questo, lo dicevano tanti in tanti, però, però, signor Kalamath... buonasera a tutti. Ah, la ringrazio. Meno male, vedete, l'educazione la conosci, anche se vuole palesemente dire, Andrea, cacciami con i dati alla live. Sono passati solo cinque secondi, e già mi pento della mia idea. Ecco, perfetto, benissimo. Buonasera, Arcano Pernigrai, 96. Vediamo se qualcun altro è pentito qui. e comunque, tra parentesi, la colpa di Strignard, tu hai messo un incontro su Strignard alle 8.50, io mi sono presentato puntuale, tu sei arrivato cinque minuti in ritardo. Erano le 8.53, lei è veramente un bugiardo, tre minuti di ritardo. Sono svizzero, per me la puntualità è importante. Eh, vedete, vedete, maledetto, maledetto, ma abbiamo una personcina che invece in questo momento, sta già precando tutti i santi per uscire fuori. Lui ha sperato, ma perché Strignard è partito? Invece è partito, sto parlando di Alex Ignazio 93, salve, salve. Sì, sì, io già dicevo, adesso ho la serata libera, posso finalmente guardare il muro, e invece siamo qui, e va bene, va bene. Oggi, tra le varie cose, è vero, parleremo anche di Joker Folia 2, ma tanto, il miglior Joker del cinema tutto, l'ho rivisto la volta scorsa, qualche serata fa, ed era Gesù Momoa in Fast X, quindi, comunque, vabbè, lasciamo perdere. Mi piace questo inno al caro Fast Infurious 10, che io apprezzo, apprezzo assolutamente, mi diverte un sacco, così come mi diverte un sacco il caro Kratos 25! Mamma mia, guarda la faccia di Andy, quel sorriso, ma come si è illuminato il volto, quando è ricominciata la live, da abbrattarselo, proprio da mangiarselo. Eh, hai ragione, quel sorriso, vieni da prenderlo a sberle ogni volta che lo sfoggia. Grazie. Sieto che tu hai rovinato tutto il momento, era proprio felice, ingalluzzito, e tu sei andato là a rovinare tutto, cala, mazza. Ci vuole un po' di verità in questo show. Ecco, un po' di cinismo. Non è vero, però. Ecco, benissimo. Qualcun altro però sta ridendo, sta sottile. La verità fa male. Qualcun altro sta ridendo, sorridendo sotto i baffi, sotto il suo bellissimo visino, sto parlando di Francisco. Ciao a tutti. Sì, no, sono contento, sembrava non ce la facessimo, invece così, a caso. Perché sì, siamo qua. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Come si sente, signor Calamatt? Stavo per chiamarla Calamatt, benissimo. Sarebbe stato troppo onore. Allora. Guarda, il capitano. Ma per te la tosse, che però sta passando, sto molto molto bene. Ah, dai, dai, mi raccomando, lei si riprenda, si riprenda. Che bello, il capitano Akab aveva il suo Moby Dick, mentre invece il nostro Akab Jay ha la sua anatra da cacciare, l'anatra di Streamyard. Io ho, non lo trovo, ma ho un pinguino. Tu scherzi, Kratos, ma c'era un episodio del comando Nuovi Diavoli, che era una parodia di Moby Dick, che in cui davano la caccia a un'anatra di gomma gigante. E c'era anche l'episodio dei fantagenitori nel quale Moby Dick diventava Moby Duck. Quello me lo ricordo. Quello me lo ricordo. Nel comando Nuovi Diavoli si chiamava Moby Quack. Geniale. Vedo che siamo molto sobri stasera dopo Streamyard. E in un episodio di Tom e Jerry che parodizzava Moby Dick, la balena si chiamava Dick Moby. Ma, prima di partire, signor Francisco, cosa voleva dire prima, signor Francisco, mi scusi? Prima quando? Prima, stava dicendo, riguardante l'anatra, si stava girando, cosa stava cercando. No, ho un pinguino ma l'ho perso. Non so che suona strano, però c'è un pinguino. Ma come cazzo fai a perdere un pinguino? Dopo lo trovo, giuro che dopo lo trovo. Ma, quello vogliono chiedere a Mr. Popper e a Jim Carrey, quello li ha persi tutti. Io me lo ho visto. Axor dice, puntata dedicata solo a Joker 2? No, prima abbiamo diversi alternativi, tra l'altro, buon Axor, saluta Alex, saluta Calamat. Tra l'altro, dice qualcuno, dove stava? Dove stava? Non la trovo. Ah sì, eccolo qui. Calamat, ma è la stessa voce di Travatar 91. Bene, perfetto, puoi cominciare a dubbiere Travatar. Non c'entro nel cazzo. Infatti, quindi, ok. No, un po' c'è là, secondo me, io sono d'accordo. Signor Calamat. non la voce, la cadenza forse. Non è stato più signor Calamat. Ma voce di Travatar dove? Dove? La tonalità è quella, però... Lui ha una voce diversa. La mia, dai. A parte che in passato mi è stato detto che ho la stessa voce del signor Giacomo, quindi ho capito che la gente dice che... Ma dove? Oh, l'hanno detto, eh. Poi vediamo. Grava, Matt, mi piace come cosa. Un saluto al buon Travatar. Ok. Allora... Giusto, ricordiamoci sempre che io vedo il signor Travatar di persona periodicamente a differenza del signor Henry Cinema. Per esempio, lo vedrò questo weekend. Tra l'altro... Però Calamat non si incazza come Travatar. Non l'hai visto ancora, il signor Calamat. Siamo sicuri? Direi che possiamo iniziare partiamo con le notizie del Cine Giornale. Non possiamo farlo senza la sigla! Dai eh! Dai eh! Allora... Voglio morire. Allora, buttiamoci sulle prime notizie. Prima di iniziare a parlare del mini-event della serata cominciamo a elencare degli argomentini che sono semplicemente delle notizie informative per i nostri cari spettatori. Prima di tutto, Transformers, i primi quattro episodi della serie animata, arrivano al cinema il 15, il 18, il 19 maggio in onore del quarantesimo anniversario. Per questo, se non avete mai visto Transformers e volete assaporare l'originale serie televisiva animata degli anni Ottanta, questa è l'occasione per farlo, grazie a Nexo Digital. Tipo io che lo farò assieme a Travatar. Daglie, daglie, che bello, anch'io andrò a vederli, sono molto, molto, benissimo, benissimo, andando avanti c'è anche un'altra iniziativa fatta dalla Yamato Video, ovvero Capitan Arlok, l'arcaglia della mia giovinezza al cinema il 20, il 21, il 22 maggio 2024, sempre per celebrare l'anniversario di questo classico, quindi mi raccomando, ricordo anche che a fine aprile viene proiettato l'anime Perfect Blue, quindi siamo proprio al ritorno dell'animazione classica nelle sale, anche se per i Transformers è la prima volta perché si tratta di una serie televisiva, mi raccomando non mancate. Benissimo, benissimo, cominciamo con l'annuncio più sconvolgente, io penso che tra tutte le cose che si potevano prevedere nessuno l'avrebbe mai immaginato non in così breve tempo. Sto parlando... Stai per dire che il vero porno e carne è morto e quello che c'è in giro adesso è solo un soldi e si sa da tipo 30 anni. No, non dicevo questo, però ok. Comunque, Matrix! Dica, dica. Che stavo dicendo signor Kratos? No, no, dicevo che effettivamente però ho dovuto pensare questa cosa. Ah, giusto, ok. Tra l'altro random proietteranno l'Arcadia della mia giovinezza all'Arcadia di Milano? Assolutamente, assolutamente. Ok. Comunque, Matrix, il film che sembrava la saga, che sembrava ferma, completamente finita col quarto capitolo Matrix Resurrections torna, torna e viene prodotta dalla Warner Bros. What? Che sta succedendo? Allora, l'Hollywood Reporter ha rivelato alcuni dettagli su questo progetto. Innanzitutto, non si sa se sia un sequel o un prequel. Quindi, non abbiamo idea. Potrebbe anche essere un reboot, però hanno confermato che il film farà parte dell'universo delle sorelle Wachowski. Tuttavia, c'è quest'altra novità. Le sorelle Wachowski non saranno per la prima volta a dirigere il film, o perlomeno nemmeno Lana Wachowski, che era l'unica ad aver diretto Matrix Resurrection. Al loro posto ci sarà Dre Goddard, che è praticamente famoso per aver diretto i film Quella Casa nel Bosco e Sette Sconosciuti a El Royal. Inoltre, anche scritto e diretto delle puntate di Buffy l'ammazzavampiri, di Lost, nonché è anche il creatore showrunner della serie televisiva Daredevil. Ha collaborato fino a Defenders, poi l'ha abbandonata. Per questo, per questo, qual è quest'ottica? Non si sa niente della trama, si sa solo che la Warner Bros vuole realizzare questo film. Allora, io sono un po' sorpreso, perché non mi aspettavo che la Warner Bros puntasse immediatamente su Matrix dopo che Matrix Resurrections è stato un floppone gigante. Allora, è anche vero che, volendo, Matrix appartiene ad un periodo in cui tutti i film della Warner quell'anno hanno floppato a causa della stupida iniziativa di mandarli in contemporanea su ECBO Max. Anche perché gli unici film della Warner che sono andati bene sono Godzilla vs Kong che è uscito come primo blockbuster dopo tanti anni escluso la parentesi di Tenet dopo il casino della pandemia quindi era avvantaggiato da questo. Dune è uscito in contemporanea su ECBO Max però era uscito prima un mese era uscito un mese prima in Europa e poi è arrivato in contemporanea in America facendo comunque un ottimo riscontro e poi l'altro film che era andato molto bene nonostante la contemporaneità era l'Evocazione 3 ma solamente perché il budget era molto più basso grazie al essendo appunto un horror. Quindi tutti gli altri film anche Mortal Kombat però anche Mortal Kombat se ben ricordo Mortal Kombat non è riuscito a farcela per quanto riguarda la regola del 3 però è stato un successone enorme su ECBO Max tanto che stanno producendo il secondo quindi prendiamolo come altra parentesi quella anche se non è proprio legata alla saga alla sala cinematografica quindi adesso il problema qual è? Quindi dal punto di vista commerciale sono abbastanza interdetto anche se la Warner Bros ha detto più volte che il problema dei suoi ultimi anni è di aver avuto delle hit molto importanti e di non averle mai sfruttate quindi magari la Warner Bros ha detto basta dobbiamo sfruttare le porca troia facciamo le cose come si deve anche se l'idea non è stata della Warner Bros ma di Goddard stesso che è un grande grandissimo amante della saga ed è andato agli studi della Warner Bros e ha detto scusate io ho quest'idea io faccio cinema grazie a Matrix ho questa idea particolare per realizzarlo l'idea è piaciuta talmente tanto che la Warner Bros ha detto sì immediatamente tra l'altro Lana Wachowski sarà produttrice dell'opera quindi è un progetto oddio oddio calmi perché qualcuno può pensare è un progetto che è stato approvato da loro calmiamoci perché Tim Burton era produttore esecutivo di Batman Forever e dubito altamente che c'entrasse una sola virgola con quel film quindi calmi letteralmente una delle prime scritte nei titoli di testa di quel film è a Tim Burton production sì infatti infatti tant'è che non è tornato a produrre Batman e Robin per far capire quanto gliene fregasse ecco quindi anche se tutti i soldi che ha fatto con Batman Forever immagino ma vabbè quella è un'altra parentesi comunque è stato curvo perché non ci ha perso soldi con Batman e Robin sì anche se in realtà Batman e Robin non ha perso soldi è solamente fatto molto peggio dell'altro ma alla fine non è stato un flop no no nella regola del 3 non c'è entrato ma neanche per sbaglio fammi controllare ma costato più di 100 milioni ne ha incassati 200 e qualcosa no più di 150 era costato eh Batman e Robin controllo immediatamente madre mia 125 milioni di dollari ne ha incassati 238 beh non è insomma insomma è vero effettivamente poteva fare decisamente di più comunque comunque dicevamo che stavamo dicendo eh sì quindi allora dal punto di vista commerciale non lo so io ho amato tutti i sequel della saga di Matrix tutti anche il quarto che è quello che mi piace di meno ma che considero comunque un grande film diciamo che a primo impatto quando ho letto facciamo il sequel di Matrix non tornano le Wachowski volevo impiccarmi cioè ho detto ma che cazzo cioè non mi piaceva anche perché avevano dato una chiusura però poi ho riflettuto quante volte gli autori danno una chiusura alla saga e alla fine i film che fanno successivamente mi piacciono comunque inoltre diciamo che se era qualsiasi altro regista avrei detto andate a quel paese però il fatto che non solo Goddard sia un ottimo scrittore perché a me lui piace molto non ho visto quella Casa del Bosco ma mi piace moltissimo Siete Sconosciuti è il Royal e mi piace molto come ha sceneggiato la saga di Daredevil la serie di Daredevil tuttavia tuttavia la cosa che mi fa ancora più sperare è il fatto che sia andato un autore con una passione a proporre quel progetto e il progetto è stato approvato cioè non è una cosa che ha ordinato la Warner affinché venisse fatto è piuttosto un regista che ha approfittato di quella situazione quindi voglio sperare che possa essere qualcosa di interessante poi io cosa vorrei un prequel un sequel io voglio un sequel se mi devi mandare avanti tutto voglio continuare a vedere le avventure di Neo e di Trinity perché per come è finito Matrix Resurrections è una chiusura ma allo stesso tempo puoi veramente fare qualsiasi cosa per quello che succede alla fine del film quindi niente diciamo che da un lato mi dispiace che non ci siano più le Wachowski però prima o poi soprattutto quando hai un franchise il testimone va dato e voglio sperare che questa passione di Coddard vada avanti quindi il giorno stesso ero vaffanculo non mi fido poi qualche giorno dopo ho mente fredda effettivamente vediamo un po' che cosa combinano non ho né l'hype ma non sono neanche restio vediamo che succede signor Calamat prima di tutto lei cosa pensa di questo annuncio e soprattutto che cosa vuole che facciano se proprio deve essere costretto a scegliere una strada perché magari a lei il progetto neanche interessa dica allora io adoro la saga di Matrix ho amato il primo ho amato i due seguiti Matrix 4 ho apprezzato l'intento tira su un discorso metacinematografico molto interessante però non posso neanche nascondere l'ovvio io a vedere quel film sono annoiato non posso mentire a me stesso ho apprezzato il discorso che tira su ci sono anche frecciatine molto forti e interessanti ma per me se un film d'azione lo vado a vedere mi annoia c'è un problema secondo ricollegandomi proprio al discorso che Matrix 4 faceva ragazzi noi sappiamo già questo film cosa sarà Catrix e non lo dico in maniera umoristica neanche per sbagliare la post-3 inizialto cioè parli tanto di quanto ti piace Matrix e poi non ti ricordi neanche il con tutto il cuore ma con tutte le cose che ci sono su Matrix 4 non è la prima cosa a cui penso signor ma vai a cagare vai a cagare Calamat e non è neanche l'ultimo cartellino che ho in servo pronto per la sera ti ce l'ha certo benissimo ho paura vado avanti vado avanti il mio caldo scopo cioè però cazzo cioè comunque mi fa veramente strano vedere cazzo ma hai fatto letteralmente un film di due ore e passa in cui smerdi l'industria hollywoodiana odierna in cui critichi con una cattiveria alluciante questa tendenza odierna di spremeri franchise fino all'inverosimile in cui prendi per il culo il come la maniera scrausa in cui questi franchise vengono spesso riesumati l'utilizzo dei vecchi personaggi che sono ridotti ormai a mummie eccetera poi appunto ripeto Matrix 4 non mi hanno fatto impazzire ma la scena post credits il prossimo film sarà Catrix perfetto e poi ne fanno un altro sul stereo cioè cazzo dopo aver fatto un intero film in cui il punto del film era che dice ragazzi sto franchise non c'è più un cazzo da dire non rompete i coglioni cioè letteralmente quello che lanciava Lana Wachowski in quel film io non ho il benché minimo interesse a vederlo perché sono convinto che proprio come dice Matrix 4 che Matrix abbia dato già da quasi più di vent'anni quello che dovrà dire volendo si poteva fermare anche al primo film l'hanno ampliato il discorso con il secondo e il terzo film in maniera anche molto interessante secondo me però mi viene in mente veramente la GIF di Simpsons basta è già stecchito in più non non riesco a non pensare a flop clamoroso annunciato perché ricordiamoci che ragazzi che il quarto ha fatto cagare al mondo cioè la gente che l'ho apprezzato non era la maggioranza è stato bravato voglio andare anche a vedere il cinema scorso lo ammetto vada vada signor quindi cioè un po' perché non penso ci sia altro da dire nella saga un po' proprio per il discorso fatto dall'ultimo capitolo basta Resurrection su Cinema Scora B- esatto ma se andate anche su IMDB e queste cose non è che siano altissimi è sempre meglio di un CPU si vabbè è come dire meno male che non è stato colto come Morbius però signor Kratos cioè questo cioè peggio di quello si può fare peggio di Morbius si può fare Madame Web che è andato per favore no no preferisco riguardarmi Madame Web che Morbius no no io parlo di incassi e parlo di incassi ah questo è vero perché il vero riscontro col pubblico lo guardi con gli incassi con gli incantro assolutamente assolutamente cioè non c'è non c'è sito o aggregatore di recensioni che tenga e mi dica preferirebbe preferirebbe un sequel o un prequel beh a questo punto prequel perché che cazzo deve fare Neo ancora quante volte deve risvegliare la popolazione quante volte deve far risuscitare Trinity quante volte Trinity deve risuscitare lui porca troia poi appunto sempre il discorso quante volte dobbiamo vedere i vecchi personaggi ridotti ormai all'ombra di se stessi o mummificati eccetera paradossalmente come è già stato detto in altri libri se proprio devono farlo parlateci di una delle precedenti Matrix fateci vedere in che modo erano differenti le precedenti Matrix dalla sesta che vediamo nella saga alcuni hanno avanzato l'ipotesi di far vedere la prima Matrix che era un'utopia e proprio per questo non funzionava che è un concetto molto interessante tra l'altro se devono andare da qualche parte io direi da quella lì non certo dalla parte di un sequel anche perché veramente sarebbe prendere il discorso di fatto dal quarto capitolo e gettarlo nel cesso cagarci sopra e tirarci l'acqua ma io ero pronto al fatto che se avessero mai continuato Matrix ovvio che il quarto capitolo accetterò un quinto capitolo proprio nel seguito se sarà proprio Catrix in quel caso mi metterò ad applaudire vabbè ma io comunque non penso che Matrix 4 perca la sua efficacia se fanno un quinto però questo quinto è bello alla fine è importante però appunto è questo il problema sarà bello perché Gordar potrà essere uno capace ma ragazzi parliamo di un'opera che non era personale di più questo è vero però anche questo dovrebbe essere non è come per carità faccio l'esempio Star Wars per carità nasce come progetto personalissimo di George Lucas ma già il secondo film lui non aveva più nella regia nella sceneggiatura ma solo il soggetto per esempio ed è considerato fra l'altro a quasi all'unanimità il più bello della saga quindi non lo so non e poi ripeto ma veramente qualcuno se lo va a vedere io forse incassa qualcosina in più del quarto per il fatto di non uscire in contemporanea su HBO Max ma io non vedo neanche un successo per sta saga perché ragazzi la saga cinematografica di Matrix non ha più successo non dal terzo capito dal secondo capitolo perché già il terzo c'è un calo di incassi pauroso quasi di mezzo fu un calo ma fu comunque un gran successo però quasi parliamo sì però se tra un capitolo e l'altro l'incasso si dimezza è un problema grave sì questo certo assolutamente non lo metto in dubbio però non parliamo di manca non lo so è un franchise è un franchise per cui io almeno nel breve periodo non riesco a vedere un futuro ma neanche per sbaglio beh vediamo un po' come la buttano invece lei signor Alex che cosa ne pensa di questo progetto come lo vorrebbe vedere un sequel se è proprio costretto a guardarlo allora innanzitutto per me l'unico Matrix buono è il primo gli altri due e invece il quarto neanche l'ho visto perché non ci avevo voglia ho detto va bene grazie è stato un piacere ma se proprio devono farlo cosa che comunque ritengo assurda visto che appunto il quarto è uscito da poco e non è neanche piaciuto così tanto perché solo sono viste le zie dello sceneggiatore della sceneggiatrice e altri parenti vari cioè su questi presupposti possiamo aspettarci anche allora l'annuncio di un seguito di Flash tra poco tra poco eh vabbè Ghostbusters ah no lo stanno già facendo con Ezra Miller sempre esatto per me è tale quella Ghostbusters cioè ho come Terminator che non sono in realtà franchise davvero famosi ma ci provano lo stesso perché si illudono che prima o poi si farà il botto come aspetta hanno annunciato il sequel di questo che sta per uscire no è questo che c'è al cinema dico ah vabbè ma l'altro era andato bene mi sembra logica benino eh ma rapportato al periodo in cui è uscito è andato veramente bene bisogna anche valutare tutto il resto in generale questo minaccia glaciale purtroppo al momento è disastroso se fanno il sequel di questo allora vuol dire che gli introiti vengono da qualcos'altro perché altrimenti non si spiega cioè boh boh a differenza a differenza di Matrix Ghostbusters può immarciarci molto di più su merchandising quindi magari questo è assolutamente però boh nel senso mi sembra una roba fuori tempo sia fuori tempo massimo che troppo presto in generale è proprio strano infatti poi appunto non si sa ancora se è un prequel se è un sequel se ho un reboot io preferirei un reboot piuttosto cioè veramente mi fai tutto da capo slegato dalla da quello che hai fatto finora così che magari attiri il nuovo pubblico e non i come si chiamano i nostalgici che si ricordano ti ricordi il primo Matrix ma è bei tempi si sono passati quasi 30 anni pensa quindi boh sono abbastanza indifferente sì il mio problema è che non puoi creare ma non puoi creare un successo basandoti solo sul pubblico nostalgico non puoi creare malissimo ma il pubblico ma il pubblico in generale cioè con Matrix non è che ne sento parlare spesso tipo Mizzica Matrix chissà se fa cioè questo film è uscito a caso non è che è come credo appunto Spider-Man 4 che ancora c'è gente che spera di vederlo non è che c'è qualcuno che ha detto wow speriamo che ci sia un sequel di Matrix 4 che veramente non ci dormo la notte non si va avanti se non c'è un sequel quindi boh hanno voglia a sperimentare ma siccome ormai sembra che l'usato garantito non stia più garantendo niente a sto punto veramente ricominciamo a avere idee nuove vuoi sfruttare Matrix come ambientazione come folklore va bene fallo ma fai un reboot fai qualcosa sfrutta la modernità di ora cioè anziché avere che ne so il telefono la cabina telefonica è il telefono normale che devi alzare la cornetta e esci fuori fai altre cose usa non lo so un'app anche questo rendilo più moderno proprio dal punto di vista grafico di come si muovono cosa fanno fai una critica all'intelligenza artificiale per essere al passo coi tempi però per me solo il reboot a senso perché il prequel che cazzo me ne frega che tanto uno so che già falliranno due no basta questo so già che falliranno quindi non è nemmeno così affascinante vedere ah però chissà qual è la storia dietro i precedenti insomma perché il prequel animatrix svela delle cose che non mi aspettavo sono meravigliose ma quello è animato un conto e vedere una cosa ma anche a livello di storia ed erano dei corto barra mediometradi ma c'erano proprio due corti che raccontavano tutta la storia ed era bellissimo in quanti altrimenti basta vedere anche Omen l'origine del presagio che adesso è al cinema tratta la nascita dell'anticristo sappiamo che Demian nascerà comunque nella saga però è bello vedere come è accaduto sappiamo di Zion di come è stata formata la prima Matrix che ha fallito ma sarebbe bello vedere anche come è successo sappiamo che è successo ma come ma c'è boh per carità magari ci sono dei fan che vogliono sapere tutto e di più anche se già sanno dove si andrà a parare non lo so io penso che devono fare un reboot se no non se ne esce fuori perché sequel poi proprio no cioè no no signor Kratos invece lei? ma ti dico non saprei proprio cosa pensare l'unica cosa che mi viene in mente di questo argomento è che mi dispiace che Drew Goddard abbia deciso di dedicarsi a questo piuttosto che a Spider-Man 4 perché secondo i rumor era uno dei registi molto più palpabili per per Spider-Man 4 dell'MCU adesso vabbè diciamo che Matrix potrebbe essere l'opportunità per tirare fuori la creatività di Goddard perché è comunque qualcosa che richiede molto ingegno creatività e soprattutto rivitalizzare il franchise questa penso che sia anche un'idea dei nuovi vertici della Warner che vogliono sfruttare di nuovo Harry Potter riportare la DC a alti livelli sfruttare le IP che hanno come appunto Matrix sulla cosa che potrebbero trattare non ne ho la più pallida idea cioè il quarto film a me era piaciuto e paradossalmente è l'unico assieme al primo film che mi era vagamente piaciuto il quarto è l'unico che mi sia veramente piaciuto della saga devo ammetterlo ma perché appunto come fa il cartello di Lana Wachowski per coloro a cui piace la merda e io a volte ammetto di essere uno a cui piace molto la merda ti vedo Calamat tranquillo sono stato già linciato più e più volte non puoi dire infatti ho abito di infierire tu Calamat è come nessun altro non puoi dire niente che non mi sia già stato detto più e più volte io non dico io faccio ehi queste sono minacce l'avvocato ovvio con la faccia da psicopatico che mi ritrovo che cazzo t'aspetti anzi mai col diavolo nel pallido plenilunio ecco lasciamo perdere comunque sia no veramente con questo Matrix 5 non sapevo cosa pensare Lana Wachowski che torna alla produzione il che mi fa pensare che potrebbe essere direttamente collegato al quarto film forse un seguito io se potessi gestire un Matrix o se potessi avere un desiderio su Matrix vorrei uno spin off sul merovingio ma in qualsiasi forma sia quella elegante chicose francese raffinate del passato oppure la versione barbona del quarto film che appunto diceva non è finita ci sarà un sequel franchise spin off eh alla fine è andata così scena migliore del film scena migliore del film ma se ti giuro ne avevo già parlato all'epoca quando ci fu quella scena io mi stavo rotolando per terra dalle risate sulla poltrona perché al caso c'erano tutti quanti gli esuri tutti quanti i barboni della sua vecchia corte e poi c'è lui che si mette a insultare in francese tutti quanti a parlare di sequel franchise spin off e prequel ma cos'è che meraviglia è andato in depressione dopo che Monica Bellucci lo ha lasciato palesemente beh direi ma quindi vedo che Kratos sa quindi dell'interesse ma non troppo nei confronti di questo quinto capitolo dipende dipende dalla storia dipende cioè su godarci punto ma sulla storia cioè già a me non fa impazzire Matrix in generale se in più la storia non è abbastanza interessante cioè volendo potrebbero anche richiamare Keanu Reeves eventualmente per dei prequel perché l'architetto nel terzo film o nel secondo film diceva che c'erano state più anomalie c'erano stati più eletti nel passato ed erano sempre con la faccia di Neo quindi hanno anche la scusa pronta per farlo benissimo benissimo invece signor Francisco allora secondo me l'idea in sé non è assurda in toto perché comunque è un'azienda che sta recuperando dei brand del passato forti meno forti insomma e sta cercando di riproporsi di costruirsi Matrix è un franchise che puoi attualizzare in tre miliardi di modi no io ce l'ho quanti ce l'hai tutti i modi l'ho fatta io l'ho detto che avevo altri l'aveva detto vero vero li fanno così Matrix se lo puoi veramente attualizzare in tre miliardi di modi possibili è vero che gli Animatrix magari li hanno visti forse gli appassionati però furono già all'epoca una cosa comunque innovativa sul nello scenario come lo fu anche il gioco che realizzarono Enter the Matrix che era pienamente canonico coi film vedevi le azioni di Ghost e Niobe al di là del film quella parte che non vedevi e potevi giocarlo poi c'era Path of the Milio insomma c'erano tanti cose Matrix può risultare interessante erano fatto anche la versione per testare il mega motore ultra realistico Unreal Engine 5 su Xbox cioè io l'ho visto su Xbox insomma è stato molto molto interessante puoi creare tante cose quelle che avete detto voi la Zion primaria puoi andare avanti puoi rendere Ciano Rips in qualche modo ce lo infili lo infili come che cavolo ne so un architetto è diventato l'architetto che cacchio ne so insomma che trovi un ruolo pure per due minuti però ce lo infili puoi creare degli agenti modernizzati puoi creare un discorso sulle realtà virtuali sulle intelligenze artificiali che è strattuale puoi veramente fare un sacco di roba con Matrix e tra tutte le cose che stanno ricacciando Harry Potter alla fin fine forse è quella che puoi attualizzare di più c'è sempre il come è vero anche che la prima trilogia è anche Resort Action che comunque ho apprezzato ma è completamente fuori dal discorso precedente degli altri Matrix assolutamente c'è un discorso metacinema che va proprio su altre cose è più un lì è praticamente parallelismente l'Anna Bacioschi che non lo voleva fare esatto manda con culo tutti io sono d'accordo Warner compresa che non se ne è accorta perché in quel momento era in una situazione talmente drammatica secondo me non l'hanno manco visto quel film io sono d'accordo fino ad un certo punto perché secondo me comunque è stata molto brava a neffare questo discorso metacinematografico e allo stesso tempo dare una chiusura alla storia tra Neo e Trinity ma a me è piaciuto ma io lo provo sì sì ma io non sono d'accordo con quelli che dicono non è un vero sequel di Matrix secondo me invece è anche un sequel completo della saga quello dico è un sequel mette anche in discussione se stesso su più punti quindi poi le storie aperte sono veramente tante io sarei interessato la prima trilogia era un discorso estremamente personale emotivo delle registe in tempi in cui era veramente difficile proporre alcune cose una delle due lo porta avanti o meglio la portare avanti nel Resurrection poi l'altra già si era tirata fuori c'è un discorso indubbiamente emotivo ciò non impedisce come in tantissimi film che per un motivo o l'altro hanno un impatto emotivo per chi li ha realizzati di andare avanti con qualcun altro è stato fatto in tanti modi è stato fatto anche in altre cose si può fare anche qua l'idea punterei sul sequel cioè sul sequel insomma su qualcosa di legato per quello sequel che sia ma con dentro una sorta di soft reboot che nascondi benissimo in Matrix basta prenderne un'altra versione quindi non ci vuole niente a farlo basta anche solo citarlo poi chi si vuole vedere gli altri si li vede è comunque una saga anni 90 molto vecchia non è detto che i ragazzini o il pubblico del quando uscirà questo film possano essere interessati al 99% neanche lo sono perfino Spider-Man che è Maguire non è detto che se lo fai da solo fai il miliardo perché interessa tutti i ragazzini da adesso è più probabile quello che abbia successo è sicuramente più probabile però se è in dubbio quello figurati Matrix di andare a riprendere una cosa quindi devi andare sul soft reboot ci puoi giocare in tanti modi io sarei favorevole Drew Goddard piace quindi può dare quella chiave anche grottesca ma capace di rinnovarlo un po' come quella casa nel bosco un po' come altre cose ha dimostrato di saper destreggiare un genere in modo da manipolarlo un po' sono sorprendentemente positivo se non l'avessero detto non ci avrei mai pensato a tutte le cose della guardia non avrei mai pensato però ho detto vabbè facciamolo sarà affetto verso la saga lo vedrei proviamoci perfetto intanto sto parlando col buon latana del cinefilo che non riusciva ad entrare con il link che gli avevo mandato a quanto pare Streamyard aveva annullato il link precedente per questo gli ho mandato l'altro link cioè glielo ho rispedito dovebbe andare bene però non lo vedo ancora tra l'altro anche diretta mi aveva detto che arrivava in ritardo non si è ancora presentata quindi non so ancora se devo buttarmi o meno nel mini mentre nel frattempo buttiamoci un attimo nei commenti non vedo l'ora di sentire il commento del caro Veon sempre ormai questo meme è incredibile che continua ad andare provocazione alla gente non ha fatto cagare la gente non l'ha visto ho capito ma se ha bimeno nel cinema scopo dire che i pochi che l'hanno visto non l'hanno apprezzato particolarmente c'è anche una cosa il pubblico il pubblico le cose scopre se le vuole o non le vuole nel momento in cui gliele presenti arrivato a New Way Home la gente ha ricacciato Garfield la gente la roba la scopre su un momento perché ci sono molti film che hanno successo dopo può capitare però anche se non è più sì però non è neanche più come una volta che un film poteva rifarsi incredibilmente con l'on video e quant'altro lo streaming ha messo fine a quel tipo di era purtroppo un film può essere riscoperto per carità che vanno avanti per lo streaming vero ma ma io vedo io vedo gli altri ancora non entrano allora a questo punto direi che possiamo già cominciare ad entrare a passare con il resto perché se se aspetto troppo tempo poi la live dura fino alle 2 di notte visto che StreamYard ci ha messo lo zampino io lo vedo già anche perché c'è un film che era soio da un momento all'altro sperando che vada bene io non rischerei neanche anche questo è vero grazie non portare sfiga ho una paura no lo dico per scongiurarlo quindi benissimo e allora direi che possiamo partire con il main event Joker Folia 2 il film il sequel di uno dei cinecomici di maggior successo degli ultimi anni che ha creato varie controversie e altre cose molto belle vediamo un po' che cosa succederà in questa diretta parole dure parole dure di un uomo davvero strano però questo è un altro discorso allora domani poi annunciano i film a Cannes vediamo cosa interesserà la gente ah grande grandissimo i film di Cannes peccato non poter andare al festival bene signor Karamat vuole aspettare che arrivi il suo turno o rimarrà così per tutto il tempo finché non farò rimango così tutto il tempo ovvio perfetto benissimo e allora per prevenire tutto farò inizia no scherzo ho già iniziato prima signor Kratos dica che cosa vuole dire su questo trailer di Joker anche perché teoricamente nel cinegiornale parlo solitamente inizio io per primo a parlare della notizia poi faccio parlare a tutti quanti voi stavolta no per questo voglio sentire prima voi e poi mi butto io stavolta stavolta voglio fare così vada signor Kratos ci sta ma prima di cominciare vorrei fare una domanda a Calamat perché sei così serio giustamente 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 allora ricolleghiamoci un attimino a 1-2 anni fa replay quando io dissi che il primo film non aveva assolutamente bisogno di un sequel effettivamente lo pensavo con tutto quanto il cuore e anche quando venne annunciato con tutte quante le foto dal set Lady Gaga come Harley Quinn Harley Quinzel le idee del musical che potevano anche essere interessanti però io non ero più che altro convinto continuavo a pensare ma perché dovevate toccare il primo film con Dodd Phillips che effettivamente aveva detto che non era interessato al genere cinecomic e che non avrebbe fatto un sequel TPP andrebbe abbreviato così TPP capiremmo comunque ma comunque sia dopo aver visto questo film cioè dopo aver visto questo trailer che ho riguardato già visto il film dici com'è com'è quante canzoni ci mettono quanto dura 15 che ho guardato almeno 12 volte oggi diciamo che ce l'ho giusto un po' barzotto all'idea di poter tornare in sala io ancora ricordo l'esperienza bellissima che fu andare a vedere il Joker nel 2019 proprio fu un'esperienza magica un film fuori dal comune per me e l'idea di poterlo fare di nuovo quest'anno cala Matt tu non hai diritto di parola visto che usi quell'hashtag e in più perché il foglio ti copre la bocca quindi in più non puoi parlare perciò questo è un altro paio di maniche ci sono anche altri modi per parlare signor Kratos non solo con la voce mi scusi me l'ha servita continui continui signor Kratos però non si faccia suggestionare da questo uomo ecco bene 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 concordo concordo che posso dire riguardo questo trailer fotografia perfetta e in sintonia anche col primo film proprio replicata e anzi aggiornata con un mix di colori fantastici perché il primo era molto malinconico questo invece si è messo colorato perché Joker ha abbracciato la sua follia in più se prima ero convinto abbastanza di Lady Gaga su foto del set con Harley Quinn adesso sono convinto che lei sarà la star principale del film e che regalerà grandi emozioni ma mi piace molto pensare a Arthur Fleck interpretato da Phoenix come finalmente una figura pazza che riesce a trovare la gioia mi è piaciuto vederli insieme sullo schermo anche se sono solo meno di due minuti di screen time in questo trailer proprio si vede la chimica che c'è tra loro la loro pazzia i loro i loro colori le sequenze musical voglio assolutamente vederle perché sembrano molto ad effetto sembrano studiate appositamente per entrare nella loro mente e dare voce ai loro pensieri mi piace anche che sia una specie di forma di terapia alla quale danno voce proprio come pensavo io quando parlavo della forma dell'acqua di Hilemo del Toro che c'è un'intera sequenza nella quale la protagonista che è muta si getta in una sequenza canora assieme al mostro della laguna alla creatura per dare voce ai suoi pensieri quindi immagino una cosa sulla falsa riga e sono sempre più ansioso di vedere questo film prima avevo qualche dubbio adesso completamente dissipato il prossimo passo è andarsi a comprare un bel costume prepararsi i trucchi trucco e parrucco trovare una ragazza e andare a vedere questo film come un pazzoide al cinema e fare un casino della madonna più di quanto avrei fatto nel primo film se avessi voluto farlo ma dopo questo voglio farlo o se voglio cosa intende lei per casino della madonna giusto per curiosità un casino della madonna tipo per esempio al cinema del The Space che abbiamo qua a Trieste abbiamo sotto lo schermo anche un palchetto un piccolo palchetto diciamo che me ne ero me ne ero appropriato durante la serata di premiere di Indiana Jones e il quadrante del destino facendo un paio di movimenti di frusta ottenendo anche qualche vero consenso dal pubblico ma immagina se potessi iniziare la serata facendo qualche danza ne ha colpito uno in faccia come minimo quello è successo a Luca Comics quello è successo a Luca Comics bravo bravo gli era anche piaciuto penso era una ragazza mi sono messo a fare quella ostaccia nel parco proprio nessuno intorno a me sta stronza si è messa proprio dietro di me lei si è mirata una frustata in faccia ma la stonterei quella frusta quella frusta le ho smosso le ho smosso i capelli con precisione senza neanche accorgermene dietro di me le ho scossi i capelli come in un film renditi conto sei ingazzata però eri attanto così da sapere io voglio ricordare che in queste dirette Kratos ha cacciato fuori la frusta e Devos ha fatto oh sì la live è assolutamente testimone il momento la mia vita è malata e la adoro benissimo benissimo Kratos il nuovo padrucchiere delle star bellissima questa cosa tanto Lurz c'è una domanda che viene spontanea dove si trova Joker in questo qui di Joker risponderò anche a questa dopo anch'io ce l'ho una cosa su sta roba qua ok signor Kalamat visto che lei non ce la fa non esternare il suo sentimento nei confronti di Todd Phillips lascio sfogare lei in questo momento vada perfetto allora prima breve sfogo sulla troia vai a fare il culo Todd Phillips hai basato la tua intera campagna marketing sul primo capitolo sul fatto che questo era un vero film non era il classico cinecomics non era un volgare franchise e quant'altro e poi ti sei messo bellamente a pecora perché hai profumato i soldi ma d'altronde da uno che diceva di essere contro i franchise quando era famoso per i tre film di una notte da leoni che cazzo potevo aspettarmi per me Joker mi è piaciuto e non è che ho qualcosa contro i film in sé ma guarda questo il mio problema non è con il film ma con la puttana che lo ha diretto ma un po' ma pura ti vuoi contenersi un vino mi chiammi di sogno una patroia io lo chiamo in quanto tale un saluto a tutte le onerevoli prostitute che ogni sera fanno i loro lavori quindi ok salve dalle mie parti ancora di più considerando che qui in Svizzera la prostituzione è perfettamente legale meno male almeno il tuo paese è voluto ma vada avanti tra l'altro c'è un bordello a meno di 5 km da casa mia che si chiama Pompei fantastico continui continui comunque che dire del trailer in sé allora non posso dire che non l'abbia trovato che c'è che l'abbia trovato brutto per carità però mi ha dato tantissimo l'idea di more of the same non saprei non lo so inoltre appunto pur averne apprezzato il primo film lo reputo un film ben confezionato molto ben recitato ma alla fine lo trovo un film a cattaconsensi che si maschera da film controverso la gente lo ha definito il grande film d'autore io l'ho trovato un film invece fatto palesemente apposta per piacere alle masse non lo trovo questa roba stratosferica che molti hanno detto e parliamo appunto di quello che per me è il grande timore che ho io per il fatto che questo film sia diventato ormai una saga aspetta signor Calamat ti interrompo perché il buon Albatross ha fatto una donazione ti ringrazio carissimo per una serata serena Daredevil o Electra ma in la base che ho mia se intenti i film non penso che tu sei dei personaggi Electra per me è una merda Daredevil è un film carino guarda Daredevil sia nella versione integrale o in quella cinematografica per me non c'è neanche troppa differenza rispetto a quello che molti dicono anche se in realtà la versione integrale ti spiega la versione del regista ti spiega un buco di trama che effettivamente aumenta forse l'interesse per il film è anche una cosa interessante quindi in realtà guarda pure la versione integrale non so invece voi cosa ne pensate ragazzi perdonate questa parentesi no meglio Daredevil tutta la vita ma sì mille volte dai rispetto a Electra voi veramente anche Calamat e Kratos sono d'accordo? se proprio mi scegli è proprio Debo a dire il vero guarda dirò la verità ne Daredevil ne Electra li ho visti recentemente i film non me li ricordo nemmeno e sì che li ho visti più di una volta perciò proprio non saprei dare una cioè a naso direi Daredevil perché Electra l'ho sempre trovato un po' blando ma dovrei rivederli per farmi un'idea migliore comunque grazie Albatross per cui è stata una ricordiamoci che il flop di film come Daredevil cioè non Daredevil scusate ma il flop di film come Electra e Catwoman è stato il motivo per cui fino a tempi recenti non abbiamo mai visto un cinecomic mainstream con protagonista una donna sì certo magari se i produttori pensassero ma il problema non era che forse erano brutti piuttosto che erano protagonisti donne era magari una mentalità decisamente lo so però ma magari ci sono i quattrini per vedere i catwalking in Barton al giorno d'oggi però non sono così fortunato pur io pur io ma vada signor Calamat mi perdoni a me è un film che potrebbe anche essere interessante per carità però anche lì cazzo il film sarà musical ma per carità è il primo teaser ma mostramelo un po' cavoli e invece non si vede praticamente un cazzo non voglio spoilerare le canzoni ovviamente però di questa essenza musical ho visto poco un cazzo nel trailer soprattutto considerando che è un film che avrà appunto come ha detto è stato detto prima ma oltre dieci canzoni quindi ne avrò ma hanno optato per il metodo di marketing alla Wonka perché anche i trailer di Wonka volevano nascondere la sua natura da musical perché la gente stranamente non è molto incline ai musical in generale l'Hollywood Reporter ha scritto che praticamente ultimamente il pubblico è arrestio a vedere film che dichiarano di essere musical e per questo Hollywood in generale cerca di nascondere nei trailer la loro natura cosa che appunto come ha detto Kratos fecero su Wonka non capisco come mai anche perché Wonka poi appunto è un film su appunto Willy Wonka la fabbrica di cioccolato e sono musical quei film sì infatti questa cosa è stranissima posso capire per ciò che è fuori da dopo posso anche capire questo ragionamento ma per Wonka io sono io e che poi anche guardando Wonka mi sono molto piaciute le canzoni anche doppiate in italiano e anche le ascoltate poi in originale perciò qui c'hai Lady Gaga che è adorata in tutto il mondo esatto appunto c'hai una sequenza musicale anche nel trailer sì sì infatti è una cosa molto però posso anche capire perché effettivamente il primo Joker non era un musical e magari per evitare di straniare il pubblico cioè però una sequenza a cui canta una volta però mi aspetterei mi aspetterei una clip forse rilasceranno prossimamente una clip della prima canzone la prima vera hit di Lady Gaga forse la sua prima cover di qualcosa oppure una musica originale mi immaginerei forse forse un video musicale un video musicale che in realtà sono scene proprio del film posso continuare? vada 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 signor Canavate mi perdoni comunque stavo dicendo a me il film preoccupa tantissimo perché perché io ho trovato una mancanza di coraggio nel primo film proprio nel finale perché il finale a toni un po' quasi horror con lui che si spalma il sangue sulla faccia a modo di sorriso inizia a ballare però io per come ha impostato il film non ho sentito un staccamento da lui anche per il fatto che durante il film a conti fatti fa del male solo a persone orribili cioè a me è mancata proprio quella scena in cui oddio e proprio per questo ho paura che andranno nella stessa direzione col sequel perché hanno paura che la loro mascotte non piaccia più al pubblico perché oh mio Dio abbasso il capitalismo stiamo riempendo delle tasche dei produttori capitalisti guardando sto film però vabbè e quindi ho seriamente paura che andando avanti con sta saga invece che un Joker villain che era la premessa del primo film perché adesso che abbiamo la conferma che non c'era nessuna ambiguità nel finale non era tutto un'allucinazione il film eccetera questo qui lo vediamo letteralmente nel finale del primo film sghignazzare prima di sgozzarsi la psicologa e invece ho paura che più che un Joker che discenda nella follia sarà un Joker tipo il Che Guevara di Gotham City assieme alla sua giovane fiamma e anche lì ho una paura matta per il rapporto con Harley Quinn perché cosa faranno? Ci mostreranno veramente un rapporto tossico che porterà alla follia la degenerazione entrambi oppure si cagheranno addosso in stile Suicide Squad e invece li renderanno la bella coppia amorevole quanto sono carini pucci pucci io ho una paura fottuta di questo anche perché ripeto io sono convinto che il primo film sia per quanto ben fatto una catta con sensi ho una paura matta che questo film vada sulla stessa strada non riesco a fidarmi cioè non non riesco a vedere un futuro per questa saga in cui Joker non sia una specie di eroe della giustizia sociale quant'altro e mi cascherebbe i coglioni ma proprio perché è una questione di coerenza interna perché se si guardano le ultime due scene del gioco originale non è quello che dovrebbe essere porca puttana ma guarda eroe eroe della giustizia sociale non direi però invece sul rapporto con Harley Quinn cioè io me lo immagino perché se tengono canoniche tra virgolette tra virgolette ripeto le origini di Harley Quinn come anche già detto in Birds of Prey lei veniva abusata dal padre quindi lui dalla madre lei dal padre si completano a vicenda lo so però magari vogliono separarli perché sono pericolosi insieme e lo so però così mi stai dando ragione a quel mio timore cioè i due poveri ma questo non vuol dire cioè forse lei addirittura è quella che c'era col mondo intero e che lo istiga addirittura a fare del male non solo alle persone colpevoli ma anche agli innocenti si fanno male a tutti guarda se ci sarà una scena del genere nel film di loro che ne so che in quella scena nel trailer in cui ballano sulle scale fanno esplodere una bomba che si vede del tribunale del processo che salta aspetta vediamo se è solo una scena musical onirica o lo fanno veramente perché io il non toccare nessun innocente o anima carica per me quello è anche quello di cui parlavano perché c'erano anche nelle foto dal set i cartelli di Harvey Dent il procuratore distrettuale che vuole condannarli mi aspetto una sequenza tipo esplode la bomba Harvey Dent rimane sfregiato in faccia quello sì ma palesemente quello è palese però sia chiaro se fanno vediamo nel film questi qua che commettono le peggio azioni e proprio orripilanti proprio che ci disgusteranno e dall'altra parte vediamo il popolo scemo che gli esulterà ancora di più man mano che facciano le peggio porcate io allora io allora applaudirò contentissimo ma ho una serissima paura che non sarà quella la via bene cioè dal seguito di un film appunto che secondo me non ha osato quanto avrebbe potuto cioè ragazzi porca misera adesso piccolo sassolino personale ripeto mi è piaciuto il primo film ma ho visto il periodo in cui è uscito ho capito che sono completamente concorde con determinate critiche di determinati politici dell'epoca ma mettermi Thomas Wayne e dirmi oh questo è Donald Trump è Donald Trump capito anche un po' meno quindi boh è un film su cui ho non pochi dubbi e appunto vedremo vedremo io ho paura non riesco a vedercelo che si prenda determinati rischi secondo me andranno a soddisfare il pubblico e a fare il finto il finto come posso dire il finto graffiante invece signor Francisco un po' più fiducioso nei confronti di quest'opera allora sì fiducioso sì allora in primis le cose facili a livello tecnico è veramente bello a livello estetico è molto ben fatto anche se avrei apprezzato l'uso di di cose un po' diverse ad esempio presentare è un teaser comunque sia poi c'è anche un discorso in realtà su questo avrei apprezzato come erano uscite delle foto alcune in bianco e nero quindi vedere un po' più di variante su quel tema lì una scena in bianco e nero una è darti un'idea di cose di un certo tipo di uno stile un po' più ma è comunque una roba che arriverà perché non si sono giocati le canzoni o tanto altro è vero che le hanno reso pubblico però in realtà questa cosa è uscita al CinemaCon che è un evento da azionisti che poi abbiamo scelto di rendere pubblico di farlo vedere a tutti manca comunque un sacco di tempo uscirà altra roba quindi avranno tutto il tempo di giocarsi canzoni cose devono farne 15 quindi tra cover di Lady Gaga una cosa e l'altra le canzoni originali lei all'Oscar ceva già lo sappiamo incasseranno una roba oscena questo film assolutamente questo proprio a quelli che dicono no ma non mi riferisco a Kratos insomma quelli che dicevano ai tempi no ma se un musical flopperà ragazzi è un stiamo ancora discutendo questo film se va tutto in merda fa almeno 800 milioni se va tutto in merda secondo me questo parte con il miliardo in tasca ha già le sue sì sì il miliardo lo passa senza proprio per andare veramente male devi fare 800 milioni ma che non va male tra l'altro quindi sì perché 130 milioni il budget non è neanche così alto no 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 il budget è 200 milioni il budget è di 200 milioni ma tanto niente è uguale sì 200 milioni fai a 800 se apposta poi non voglio immagino la campagna marketing che se la porta tutta Lady Gaga dietro figurate poi stiamo ancora qui a discutere il primo solo il trailer si discute tantissimo e questo è tutto marketing proprio di un teaser che manco doveva arrivarci ci è arrivato perché hanno scelto di un film che tra l'altro è pronto e se volessero uscirebbe domani quindi è tutto veramente una macchina particolare le parole di Phillips alla fine ha detto quello che dicono in tanti è pieno di attori che lasciano il ruolo e tornano di registi che dicono ho finito e tornano il mio problema con lui ripeto ha basato la sua campagna marketing su questo ma sì cioè sputando strato sputando sul lavoro di suoi colleghi nel primo o nell'ultimo sì sì ma sia chiaro questo sia chiaro questo atteggiamento mi disgusta anche quando lo vedo fare da sì ma è Hollywood e io di un parte due quello è appunto il miglior film che ho visto per ora quest'anno in sala eh ma sì ma intanto se andiamo a cercare la morale Hollywood auguri ha fatto il miliardo quello ha preso l'Oscar dove d'ora è tutto come effetti film il problema è anche il problema è anche poi ti lascio parlare scusa è che proprio anche proprio l'arroganza non solo del regista ma anche di una come al solito non si smentiscono mai i fandom i fandom sono il male cioè vabbè porca misera era tutti lì a a a farsi le seghe dicendo sì quanto siamo fighi per aver visto sto film non come quei caproni che guardano l'MC li ammazzerei questi qui infatti l'ho letto questa cosa sotto le pagine su Facebook quando uno ha detto è meglio uno ha detto il trailer non mi è piaciuto uno ha risposto non è come le bambinate della Marvel io volevo dire ma aspettate di essere voi infantili con se stronzate però poi mi sono letteralmente vi siete guardati allo specchio sparandovi delle seghe davanti alla vostra immagine perché avete ho visto un film per adulti un vero film non un non una macchina ma non era un francese Isaac Snyder è altro caso però lì lo fa con gli stessi film quindi è ancora più inquietante la cosa ma scusate non è Todd Phillips stesso che aveva detto Joker non è un cinecomic esatto no 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 fermi 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 questo non l'ha detto Todd Phillips questo l'ha detto uno dei giudici di Venezia che hanno segnato il film il leone d'oro e fu anche italiano a dirlo quindi non capivo un cazzo ok vabbè vada a parte signore vada signor Francisco io penso io penso che sia semplicemente il gioco di Hollywood e come le mille minchiate che dice Faggy per venderti un film che sta dicendo Gun che con The Flash che era il nuovo cavallero scoreano io ne frega niente questa roba che devi vendere il pubblico poi sì c'è una fetta di pubblico che utilizza l'alibi del non cinecomic per fingere di non guardare un cinecomic e non si accorge che tra Joker Fully Ad e quello che fa la Marvel a livello di marketing ti fregano due volte solo in modo diverso non cambia un cazzo esatto e va benissimo così tra l'altro e non è un male va bene non esiste sta rottura di palle del cinema alto che se guarda arrotti con io ma il problema è che il fandom di Joker lo portano avanti sto dicendo il fandom di Joker dica quello che vuole poi si salti su quello che vuole a questi che frega una volta che tu sei in sala che l'hai pagato perché te credi un genio che l'hai pagato perché hai speso hai incassato è l'unica cosa che gli importa a questi qua poi il motivo per cui te lo vedi se a casa tua sei felice del tuo ego per aver visto una cosa alta che poi non basta vederla devi pure capirla buon per te quanto a Fully Ad allora penso che sia interessante questa cosa del chiedersi cosa sia vero cosa non lo è lo stiamo facendo per un teaser lo faremo per il trailer ed è tutta discussione quindi aiuta tantissimo a livello marketing chiedersi questo è onerico questo no chissà cosa accadrà non punterei sulla questione è probabile che possano farlo ma non so se vorrei vederlo la presenza di Harvey Dent che diventa due facce perché credo che il focus debba restare comunque Joker cioè un conto è metterti il personaggio in versione umana anche Thomas Wayne anche Bruce Wayne un conto è metterti la sua variante personaggio puro quindi due facce Batman non so qual è la direzione credo pure che sia qualcosa che bello andrà benissimo ma dall'altra parte c'è Gunn che se lo vuole togliere il più in fretta possibile c'è il Joker di Batman c'è il Joker che vorrà vedere lui un giorno questa è una cosa che può andare avanti se fate fare il miliardo è interessante capire se ti fanno il 3 chi muore qua io fanno Gunn può avere tutte le sue riserve che vuole e se ha con i soldi e su quello non si scuole quindi io sono molto positivo per il trailer a me è piaciuto non condivido neanche molte delle critiche al film e qua viene il discorso del c'è Joker in questo film su Joker di base i fumetti o i cinecomic anzi prendono l'ispirazione da una marea di roba quando si dice il vero Batman il vero Spider-Man il vero questo e il vero quello quello che vediamo al cinema è un insieme di cardini di alcune cose più un mashup di milioni di altre anche nei film di Nolan c'è un mix up ad una marea di roba poi conta quello che tu vai a proporre e a me che esista una versione di Joker differente non dà nessun fastidio le mie copie dei fumetti non prenderanno fuoco non prende fuoco sicuri va tutto bene ok c'è Joker che piange sotto la pioggia che pianga sotto la pioggia se quel personaggio che poi già di per sé è sempre stato più un archetipo di altro un simbolo di altro diventa simbolo di ciò che mi sta raccontando in questo preciso film a me interessa quello poi può fare cose crudeli può motivarle in tanti modi il discorso è chiunque può diventare Joker ok va bene vedremo quello che fa Arthur Fleck che è diventato un Joker a me non disturba quel discorso lì lo trovo purista però di quel purismo che danneggia la possibilità di queste cose di cambiare considerando poi che fumetti e cinecomiche cambiano tantissimo lo stesso Joker in realtà poi è cambiato in altre cose non sta più nemmeno con Harley Quinn se andiamo a vedere i fumetti adesso quindi la stessa Harley è cambiata già in su se scuole veniva costruito un discorso l'ha portato per Avanti Gun c'è un discorso di emancipazione puoi fare una marea di roba con i personaggi i personaggi non possono e non devono fossilizzarsi in dei concetti per amore del pubblico perché altrimenti rimane lì fermo ce lo guardiamo noi appassionati a prima settimana e tanti saluti quindi ben venga che le cose cambino il folia può essere fatto in tanti modi sì forse è chiaramente fatto per avere le fiere piene di personaggi vestiti in quel modo è ovvio è marketing è grazie al cavolo e va bene poi che la relazione nei fumetti per la giocera è diversa ok chi se ne frega questo è riferito al film amen il fatto che siano uno a condizionare l'altro leggevo l'inchat però forse è lei che condiziona lui sì è possibile è possibile il fatto che lei sia già una paziente era come sembra e va bene è una paziente follia è una cosa veramente esistente in psicologia che si costruisce contaminandosi a vicenda da una persona dominante a uno che diventa succube ma che poi diventa veramente un logorarsi a vicenda quindi lo puoi strutturare da relazione malata a due persone che pur distruggendo il mondo in realtà stanno distruggendo loro stesse puoi fare tantissime cose molto interessanti quindi apprezzo osare il fatto che sia un musical è osare per certi versi comunque stai andando su già come il genere che se lo proponi un musical già c'è gente che ti dà sì però invece sì però già col fatto che hai messo Lady Gaga ma la cosa del musical si è giocata benissimo da questa non sono manco scemi cioè sì faccio un musical ma te lo faccio per la pop star insomma non sono scemi sono gli stessi che hanno trascinato per un decennio un universo cinematografico morto alla nascita no non sono scemi in questo film sono stati furbi a pensarsi come hanno fatto poi non si fallisce mai in tutto successo in tutto per quelli della Sony dei Spider-Man fanno le SSU ma te danno pure in tour Spider-Verse quindi c'è sempre una multitudine a me interessa veramente tanto sono curioso e io amo la DC e Bios non dico un DC fanboy ma quasi però amo come al cinema le cose possano venire stravolte quindi perché so che a me è un diverso e mi piace vedere una cosa diversa cala ma ti ti adoro per quella cosa quindi concludo dicendo sì a me va benissimo e accolgo anche bene tutti i cambiamenti necessari per modernizzare o per riproporre semplicemente questo personaggio e il sequel da un film che comunque ho attrezzato benissimo signor Alex lei cosa da dire? boh io ho guardato questo trailer l'ho guardato ben una volta la notte scorsa e mi è bastato ma ci soglia quindi scusate se non mi ricordo tutti i dettagli tipo scene sottili come un baobab delle guardie che hanno gli ombrelli e lui è l'unico stronzo sotto la pioggia vedete quanto c'è questo uomo bastardi e loro sono colorati gli ombrelli il suo mondo invece è grigio come fate a non capire l'arte? il primo Joker a parte gli scherzi scherzi io l'ho sempre considerato il capolavoro a prova di idiota perché non è uno di quei capolavori che veramente tu dici però magari all'inizio alcune cose non le capisci ripetendoci no no qui c'è proprio tutto tutto quello che ti fa vincere l'Oscar infatti tutti i commenti del trailer di ieri notte lo ha detto io prima è un film a catta consensi era a catta consensi sì perché c'è lui che ha la sfiga di Fantozzi che ogni cosa c'è anche quando fa l'uomo panino arrivano quelli a caso e gli fanno male con il cartello e lui no ridatemelo mi serve per lavorare cose varie quindi l'ho sempre trovato uno che diventa cattivo non perché ha una giornata storta che è quella la bellezza di Joker che tutti possono essere Joker con una sola giornata storta invece lui ha una vita di merda con la mamma che lo legava al quindi ho detto grazie grazie che è diventato così mi sembra anche normale quindi già l'ho trovato un po' vabbè infatti l'ho visto una volta al cinema ho detto ok basta I'm done with this infatti questo non credo che lo andrà a vedere magari sento qualche recensione poi ci penso non lo so arriviamo a questo trailer e mi sembra sì io sono d'accordo con Calamat a me sembra tale e quale più o meno a quello che abbiamo visto la volta scorsa c'è sempre lui non arrivo fino a questi livelli perché con tutti i soldi che hanno fatto l'avrei fatto anche io Joker 2 e le puttane cosa vogliono? eh vabbè ma povere creature ma di fenne in realtà povere creature ci ha insegnato la grandezza delle prostituire ti faccio vedere il listino guarda dopo ti fanno il sito di qualche bordello qui nelle vicinanze e ti mostro i loro i listini prezzi poi ne riparliamo accidenti va bene eh vabbè allora i foto che possiamo con musical non me ne frega niente perché tanto io adoro i musical quindi non è quel problema anzi vuoi mettere tutte le scene psichedeliche strane che puoi fare con la musica robe varie tanto anche il pubblico magari più generalista che si rompe le scatole con i musical alla fine dice vabbè Joker oh raga figata stiamo guardando un film d'autore quindi beviamoci questo musical anche se non fa per noi perché non è un musical come tutti gli altri è ben più esatto può farci quello che vuole lo può modificare lo può rivedere i fumetti rimangono lì è sacrosanto però per me in generale quando tu vai a trasporre qualcosa un personaggio già esistente in un altro media magari può essere diverso ma comunque deve avere quello spirito quell'anima che nonostante alcune differenze ti fa dire cazzo è proprio lui invece lui per vari motivi che ho detto prima non è Joker per me non ci assomiglia per niente e anche la roba con Harley Quinn intanto a me sembra un peccato che lei non sia una dottoressa che viene plagiata da lui ma una che già è matta come un cavallo e qui si ricollega alla mia paura del fatto che li potrebbero veramente rappresentare come oh i tuoi pazzi che però si amano contro il mondo Bonnie e Clyde Bonnie e Clyde Bonnie e Clyde Bonnie e Clyde il film di Death Note di Netflix più o meno siamo lì come no no non confondiamo non confondiamo la cioccolata avete difeso per la tratta sta roba ma poi magari è lei che costringerà lui a fare le cattiverie esattamente come Misa si l'ha detto uno qua in ciasco non conforniamo la cioccolata con la merda sembrano uguali ma è il sapore che è diverso e lo disse Belletico Joker è un film a cattaconsensi Death Note è un film che sembra fatto su misura per fare incazzare chiunque esatto effettivamente vada signor Alex sì sì è un peccato perché era bello il fatto che una persona studiata e tecnicamente super logica come una psicologa si facesse appassinare dalle idee del Joker il fatto è che questo Joker non ha delle idee appassinanti è uno che ogni tanto impazzisce ogni tanto non ride non perché trova la vita divertente nella sua insensatezza ma perché ha questa malattia quindi in realtà neanche lui effettivamente trova tutto per forza divertente quindi lei è già matta come un cavallo appunto c'è la cosa che magari sono picci picci perché c'è quella scena del Taylor del dottore quello che è che dice ad Arthur ma cos'è cambiato non capisce lei mi completa adesso c'è lei dice una roba del genere non mi ricordo quindi ho già non sono più solo è di questo che dovremmo parlare esatto e poi questo pubblico questa città che dice bravi bravi viva il mago viva il mago cioè io no non ce la posso io non ce la posso fare sono stanco basta il grande Joker butto la previsione catastrofista il film finisce con qualcuno che fotografa Joker ed è tipo la foto di Che Guevara in versione Joker si 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 ci fanno le magliette allora e adesso vado con questo trailer adesso ho ascoltato per bene tutte le vostre no no attenzione il signor 50 kg vuole farci la bua ma io lei non sa neanche come ho preso questo trailer cioè aspetti signor se vuole fare lo spaccone così con i pugni eccetera deve accettare la controffensione signore Matteo adesso voglio sfogarmi su alcune cosine che riguardano quello che sto leggendo e sentendo del film di Joker quindi adesso mi butto un attimo allora non ho mai non ho mai nascosto il mio grande amore per il primo film di Joker io non sono per niente d'accordo sul fatto che sia un film raccatta consensi o nel senso che quello che deve fare lo fa bene quindi non ho mai avuto nessun problema io ho adorato il modo in cui ha destrutturato la figura del personaggio ma sulla questione dei fumetti ci arrivo dopo ma quella che se ne frega no no poi ci vado anche per parlare di quell'elemento anche perché al di là di questo perché prima è stato citato Death Note io ho visto tutto l'anime di Death Note lo amo per me non è mai stato un problema che fosse diverso dal film anime il fatto che il film di Death Note è una merda quindi quello è un altro discorso ecco non è un punto anche The Punisher zona di guerra è molto fedele ai fumetti ed è un film di merda quindi non è quello il punto ripeto io amo il primo Joker sono tra quelli che l'hanno dato quindi ero molto curioso di vedere questo sequel non fa niente per quanto riguarda Tom Phillips perché io sono sempre di questa idea Hollywood cioè basti anche solamente pensare a Tim Burton che ha detto hanno trattato una merda il mio Batman di Michael Keaton in The Flash non mi hanno chiesto il permesso non lavorerò mai più con la Warner Bros in vita mia due mesi dopo annunciato il prossimo film di Tim Burton chi lo produrrà la Warner Bros ah quindi a me parliamo dell'uomo che spara la merda della Disney perché l'ha fatto lavorare The Toby e poi ha lavorato più volte con loro sì infatti quindi dico loro non mi interessa a me la coerenza degli artisti a me interessa quello che hanno da raccontare con i progetti che vogliono fare così come non mi interessa neanche se un film è un sequel un reboot un remake un film originale a me interessa cosa trasmetti nella storia ora il trailer mi è piaciuto moltissimo per come è confezionato meno di tutto sono d'accordo nel dire che visivamente sembra molto bello mi piacciono tantissime le influenze cinematografiche molti hanno pensato all'Alaland ma io quando li ho visti sul tetto con l'insegna con i colori ho pensato delle parole dette molti mesi fa sul fatto che uno dei film di principale ispirazione era Un sogno lungo un giorno di Friendship for Coppola film che ho visto per la prima volta al Festival di Venezia restaurato capolavoro uno dei musical più belli che abbiamo mai visto che tra l'altro è stato di ispirazione per l'Alaland l'Alaland ce l'ho più visto nella parte della luce che incloba Joker mentre sta per cantare quindi a me piacciono tantissimo queste queste influenze anche per quanto riguarda i colori di Cantando Sotto la Pioggia all'inizio un'analogia molto interessante mi piace anche la scena che Alex ha sveppeggiato perché a lui non l'ha colpito invece a me piace l'idea che Joker abbia colori attorno ma lui non li percepisca perché appunto attorno è solo cioè mi interessa come concetto per me è il contrario invece per me il mondo è proprio così ma è lui che lo vede perché inizia a essere felice può darsi vedremo comunque per quanto riguarda allora quindi mi piace tanto la messa in scena sembra visivamente più elegante dell'altro mi piace tantissimo la sequenza in cui stanno ballando sul tetto e poi nella stessa identica inquadratura con uno stacco di montaggio vediamo praticamente tutti e due che in realtà stanno ballando in strada quindi mi piace il fatto che queste sequenze oniriche vedano la mente di Joker e di Harley che per loro sia tutto bello e felice mentre attorno magari stanno facendo casino quindi io spero che questa cosa sia convertita anche nella violenza tra l'altro mi aspetto un film anche più action dell'altro perché a un certo punto si vede una sequenza in cui Joker colpisce una persona con uno scabello quindi da qualche parte dovrà andare anche questo è vero poi da questo punto di vista poi sono felice che non ci siano delle stronzate tipo ma chissà se è tutto nella mente del personaggio io da grande amante di Joker non ho mai creduto al finale che molta gente ha detto ma forse si è immaginato tutto io l'ho rivisto cinque volte Joker non ho mai capito dove c'è quel dubbio l'hanno arrestato lui ha scoiato viva la psichiatra fine appunto non è che c'è altro non ho mai capito questa ambiguità che il due potrebbe rovinare su questo sono completamente d'accordo poi poi Harley mi piace molto cioè nel senso che Lady Gaga è meravigliosa cioè la parte in cui sale sulle scale ha quello sguardo di consapevolezza che mi piace tantissimo dall'altra parte il fatto allora il fatto che loro due non si è anche vero che in una scena si vede Harley Quinn che sta puntando Joker cioè sta puntando una pistola a Joker in fronte però quella è anche una sequenza onidica mentre stanno ballando quindi può anche darsi che sia un giochino sul macabro che i due stanno facendo no? però ecco io ho pensato una cosa perché io ho pensato poi a Su-Sexquad che come sappiamo è stato molto criticato dagli appassionati perché Joker e Harley erano la coppietta felice e simpatica io ho pensato questa cosa era veramente quell'elemento a darmi fastidio intendiamoci la parte di Harley e di Joker nei fumetti e nella bellissima serie animata di Paul Dini perché io ho letto anche il bellissimo fumetto Mad Love che alla fine era il remake in salsa a fumettistica di quella puntata lì solo che era più violento perché fumetti lo permettevano è meraviglioso io ho sempre considerato la scrittura di Harley Quinn come una delle denunce più grandi verso i maltrattamenti della donna che siano mai state fatte nell'arte quindi è una cosa a cui tengo però allo stesso tempo se parliamo di reinterpretazione mi piace il pensiero che Joker sia un pezzo di merda però abbia un'unica persona a cui tiene in stile Bonnie e Clyde non è un concetto che distruggo a prescindere perché poi molti mi diranno ah allora tu apprezzi success squad ma in realtà la parte che mi dava fastidio di success squad non era il fatto che loro si adorassero perché comunque tu puoi creare delle scene cattive tipo per esempio quando Joker vuole offrire tra virgolette Harley al boss in success squad e Harley dice ok e lui dice no è la tua donna amico non voglio fare niente e Joker utilizza queste parole come pretesto per ammazzarlo è una delle poche scene di success squad che mi piacciono veramente tanto a me la cosa che dava fastidio è che il film finiva con Harley che sta in prigione arriva Joker che si toglie la maschera sono ancora vivo e finisce col graffito Joker è venuto a salvare Harley io vaffanculo perché Joker è un pezzo di merda me l'ha fatto vedere all'inizio del film che prende in ostaggio una donna e minaccia l'uomo io te l'ammazzo se non me la fai se non me la fai praticamente arrivare quindi io allora la mia unica paura di Joker Foliad è questa io non sono d'accordo sul fatto che il personaggio sia un eroe all'inizio nel primo film non l'ho mai pensato io non ho detto questo no no infatti lo so lo so io sto parlando appunto le critiche generali io solo ho detto che non l'hanno rappresentato crudele quanto dovrebbe essere sì io per quanto riguarda allora diciamo che io ho sempre ritenuto questo per il primo Joker ovvero che lo trovo un ottimo racconto di origini nel senso che tu tanto Joker ha origini che sono praticamente misteriose salvo le quasi misteriose origini di Killing Joke e quelle di Amanji e Pazzi in realtà anche in quella storia ti fanno capire che quelle che vediamo probabilmente non sono le sue vere origini io infatti ho detto quasi apposta perché c'era appunto quell'elemento là quindi io ho sempre pensato che Joker è un film in cui Joker lentamente si sta trasformando in Joker e per me diventa il Joker completo nel momento in cui spara al presentatore lì e poi alla fine Joker ha quella consapevolezza e io la cosa che amo del primo Joker è che Joker vuole prima di tutto ammazzarsi all'inizio perché pensa di non avere più niente nella vita perché è abituato ad essere ignorato ma lui pensa che l'unico elemento l'unico elemento che possa portarlo ad avere attenzione da parte degli altri e quindi che lo fa sentire amato tra virgolette sia ammazzare la qualunque questo è un concetto che amo perché richiama la profonda anarchia di Joker perché basti pensare nel finale di Batman Arkham Knight in cui a un certo punto dicono che la più grande paura di Joker sia essere dimenticato secondo me è molto spiccito il fatto che il primo film di Joker mostra il fatto che Joker utilizzi i problemi della gente come pretesto per dare sfoggio al suo ego e ammazzare chiunque voglia tant'è che la parte finale in cui lui utilizza il sangue per pulirsi molti mi dicono eh ma ci sono tutti quanti a esultare con Joker sì è vero però la sequenza la scena la fotografia la musica è tutto horror c'è tutto una cazzo di musica veramente cattiva quando si usa utilizza il sangue col sorriso che praticamente quindi è un modo per dire che la violenza sarà il suo unico modo per avere felicità in quel momento la musica è proprio tan 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 quindi come per dire è finita non lo ricopriamo più e infatti lo vediamo con i piedi insanguinati mentre va mentre va appunto nell'alba della sua nuova vita omicida diciamo che il problema è che Joker ha questo vantaggio ovvero che ti presenta il Joker cattivo alla fine quando lo è diventato qui invece tecnicamente dovrebbe essere Joker dall'inizio ed è molto più difficile riuscire a mantenere un personaggio cattivo dall'inizio fino alla fine anche se potrebbero avere la scusa perché questa è una cosa che ho percepito nel trailer che Joker si sia addormentato nel senso che è tornato a essere Arthur poi l'esperienza con Harley lo risveglia quindi tra l'altro la scena finale con Rossetto mi piace tantissimo con anche vabbè poi Phoenix come recita veramente mi trascina tantissimo quindi per me è un trailer promosso mi esalta tanto tra l'altro è bello vedere anche Brendan Gleeson nel che interpreta appunto una delle guardie mentre butta Joker dentro quindi a me piace molto ultimo elemento che riguarda la fedeltà dei fumetti voglio dire questa cosa allora Joker Joker io una volta provai a dire che secondo me il primo Joker di Todd Phillips è fedele ai fumetti ai fumetti la risposta che mi arrivò fu provare a dire che Joker di Todd Phillips è fedele ai fumetti significa non averli letti allora io a 12 anni sono entrato in una fumetteria per la prima volta e il primo volume che ho acquistato è Amanti e Pazzi che è un fumetto che racconta le origini del Joker che tra l'altro erano molto ispirate col seno di poi guardandolo alla figura del Joker di Heath Ledger ora a parte che ho appena spiegato se è quella a cui penso io in realtà è un po' più ambigua la cosa perché sono usciti più o meno nello stesso momento il film del Cavaliere Oscuro è quella storia lì se è quella che ho in mente io quella in cui Joker si fa le cicatrici col Batarang di Batman ok non credo sia la stessa allora ok comunque ripeto io non sono cioè ho già spiegato del perché secondo me l'opera reincarna lo spirito di Joker per quanto riguarda la sua idea di follia per cui ammazza la gente col pretesto per non essere dimenticato per attirare l'attenzione Joker mette il suo ego per ammazzare le persone e attirare le persone ma l'altra cosa che io su cui volevo concentrarmi è la questione del Joker poverino perché molti mi dicono che il problema è principalmente quello ovvero che Joker è mostrato come vittima ora il punto non è quello secondo me perché ripeto non è lui un conto è vedere una persona e pensare mannaggia come vorrei poverino un altro conto dire sì ammazzali tutti quanti è completamente diverso comprendere e giustificare sono due cose diverse e io qui mi appello a una cosa killing joke che cos'è perché qualcuno potrebbe dire no killing joke è diverso dal primo Joker perché prima di tutto vabbè Alex ha fatto l'esempio del di una sola giornata mentre Joker sono vari giorni varie robe che gli capita una vita intera una vita intera poi dipende perché anche lì c'è un altro concetto su cui mi vorrei però quello è un altro discorso è anche vero questa cosa importante ovvero che Toll Phillips l'aveva detto ha cambiato questa versione del fumetto perché per lui è bella la cosa di fondo però non gli piace il fatto che sia in una sola giornata perché per lui non era abbastanza realistico ma queste sono interpretazioni a parte il fatto che anche killing joke non è che quello facesse sta vita ediliaca anche a parte quello però ma non è questo il punto però non aveva turbo mentali ma non è questo il punto possiamo litigare fino alla fine sul fatto che una giornata devessero tanti giorni non è quel punto il fatto che Joker non può essere una persona che ha subito tanto ma le origini di killing joke è praticamente un povero Cristo che è una persona normalissima non è neanche un malato di mente come ha detto Calamat nel film che gli capita la qualunque e quando tu vedi che lui si toglie il casco e guarda quel cazzo quella pozzanghera e si vede e impazzisce ma un po' di pena la potrò provare si toglie la maschera e guarda quel cazzo è bellissimo ecco cioè un po' di pena no? la potrò provare per quel povero Cristo poi non vuol dire che poi cominciò a pensare a lui che è violenta Barbara e fate il male agli altri e faccio sì ha fatto bene no ovviamente col cazzo ma quello vuol dire dare un'origine tragica al personaggio e fornigli un contesto per cui tu pensi cazzo però se la sua vita fosse andata in un altro modo forse non avremmo avuto Joker e dirò di più al di là del del passato del fatto che la sua il fatto che sia una scelta multipla o meno non mi interessa anzi per me quella è sempre stata l'origine ufficiale del Joker alla fine Alan Moon dice agli spettatori potrebbe essere così come non potrebbe essere così è un'ambiguità perfetto io scelgo che quelle sono le versioni ufficiali di Joker perché l'adoro tanto ma l'ultima scena in cui Joker fa la barzelletta in cui dice io in cui alla fine la barzelletta spiega che lui non vuole provare a curarsi perché ha paura di cadere quindi ha paura che la gente lo abbandoni a metà strada quando appunto sta per essere curato ma quello non è un modo per dire guardate questo è un personaggio tragico perché non potrà mai più riprendersi dalla sua pazzia non è un modo per dimmi che Joker dietro la sua stronzaggine è comunque un personaggio tragico quindi perché se mi va bene questa tragedia di Joker di The Kling Joker non mi può andare bene la tragedia di Joker Folliade cioè questa è la cosa che io non capisco perché non può avere un'origine tragica Joker ma dove sta scritto poi possiamo discutere su quello che Joker fa dopo e magari per gli altri non è abbastanza giocheroso sono delle cose su cui possiamo discutere ma io non capirò mai questo approccio qua e mi taccio e comunque il trailer l'ho amato e il mio film che ho atteso dell'anno non vedo l'ora di questo se tu prendi una qualsiasi delle storie che il Joker di Ledger racconta nel film sono tutte orrende e tra l'altro in una di queste c'è anche l'abuso del padre se tu prendi tutte queste storie sono tutte quante su vite orribili non su una giornata sono proprio vite terrificanti poi nessuna di quelle problematiche è che la vera la critica che molti tirano e non il fatto che abbia avuto vite di merda ma il fatto che fosse una persona normale non una persona appunto già con dei disturbi ma lui il problema ce l'ha perché ha vissuto una vita orribile non nasce col problema ce l'ha perché subiva con dei maltrattamenti ma che poi se ognuno può diventare Joker ognuno può esserlo anche in modo diverso in realtà House of Manuel in Killing Joker non piangeva in diretta TV ho capito che non piangeva in diretta TV ma c'era il momento in cui dicevano sai tua moglie è morta compreso il figlio e c'è quel momento in cui lo guarda e l'inquadratura lui che sta in silenzio e poi fa cosa scusate quello cos'è e comunque Joker non è il film dei Killing Joker sì ecco anche questa cosa anche perché anche perché il film di Killing Joker purtroppo è uscito fuori male comunque scusate avete ragione in chat privata leggo che sia il buon Kratos che il buon Francisco devono andare cavolo anche perché purtroppo gli altri due non possono arrivare perché Diletta mi ha contattato non può esserci il buon Taverna non può esserci quindi tra poco rimarremo in tre quindi passeremo da Pogliado a Ménage a Troyes esatto ma ragazzi ho la possibilità di sentire il vostro parere sul trailer di Maxine prima di che andate velocemente anche per 30 secondi ah no perché non ho neanche visto né X né Pearl quindi non saprei neanche cosa dire effettivamente cioè è con tutto che ce li ho in Blu-ray solo che il mio problema è che compro così tanti Blu-ray al mese che sono sommerso di robe che devo recuperare compro più di quanto abbia già effettivamente visto va bene approfitterai quando il film uscirà ecco quindi non ti preoccupare e allora signor Kratos se io la voglio ringraziare per essere stato qui mi perdoni se l'ho trattenuta perché non mi sono reso conto della chat privata ma grazie per la compagnia ma grazie a voi è sempre stato è sempre stato sempre è e sempre sarà un piacere stare qui con voi e sono contento di parlare di tutti quanti gli argomenti che volevo parlare soprattutto di Joker che ero gasato a mille e noi ci vediamo prossimamente quindi per parlare di Ghostbusters dai il signor Kratos sarà presente alla diretta di martedì sera quindi mi raccomando la ringrazio signor Kratos quindi cosa? scusami? che stavi dicendo? io ah scusa pensavo se si è riuscita una cosa ok grazie signor Kratos ma si figuri e allora le auguro la buonanotte altrettanto ragazzi ciao Kratos ah ah Calamat me lo faresti rivedere ancora una volta almeno cosa? tu sai cosa l'hashtag ah ok ok con fierezza sempre comunque fino all'ultimo meraviglioso ok mi sono rifatto un attimino gli occhi ciao ragazzi ciao ciao Kratos signor Francisco prima di salutarla dica la sua sul trailer di Maxine cazzo ma c'era anche il trailer di Bambi perché alla fine se rimaniamo in tre abbiamo il tempo di parlarne perché non è che c'è molto troppo da dire quindi va bene dica la sua su quello di Maxine e poi se vuole anche su quello di Bambi sì tanto che c'è da dire allora mi è piaciuto tantissimo quello di Maxine ma veramente tanto io ho visto gli altri due film in maratona mi sono preso una notte mi sono vissute due mi è piaciuta l'ironia che c'è mi è piaciuta la critica sul perbenismo mi è piaciuto il discorso sull'erotismo sull'ipocrisia del come viene affrontato anche il tema della polimografia di tante cose veramente interessante Maxine tra l'altro quelle tre X sono bellissime l'ho veramente adorato il trailer è uno stile una fotografia è proprio un approccio che mi è piaciuto tanto di questa sorta di pseudo-anima candida che è veramente altro Carly Queen quindi veramente interessante eh che? no vai vai non ho detto nulla no perché vedevo io ok quindi sicuramente un film che aspetto mi interessa mi ha fatto anche tornare voglia di rivedermi i due film precedenti e di recuperarmeli per rivederli con meno fretta diciamo così quella era proprio una notte che mi andava a rivedermeli quindi ok però rivederli ragionarci un po' di più secondo me è un approccio molto molto interessante che mette insieme i due generi sporchi del cinema l'horror e la e la pornografia non solo l'erotismo e li mescola a quanto è sporca poi la società l'economia il diventare famosi che è un discorso straattuale quindi è anche bello vederlo proposto in quel modo eh è come quel candore iniziale poi viene gradualmente distrutto quella è una brutta giornata vera e mi piace mi piace tanto il il tipo di coraggio di discorso che si vuole portare avanti non solo nel genere ma come il genere viene usato quando usi un genere per raccontarmi altro e portarlo più eh su un discorso complesso interessante sono sempre stra positivo dall'altra parte c'è Bambi allora allora che devi dire Bambi allora io l'ho visto Winnie Boone una volta poi non ci ho fatto a rivederlo l'ho visto una volta ed è bastata eh credo sia uscito pure quello su Mickey Mouse non so se però è vero non è ancora non è ancora uscito ringraziando il cielo è sicuramente fake Bambi allora ti ha detto che si l'ha visto da piccolo ma Bambi è già inquietante di suo quindi vederlo adulto quindi è sequel praticamente perché i bambi finiscono che diventa veramente il cervello vederlo adulto che impazzisce completamente che ribalta le macchine non mi aspettavo un investimento in di questo tipo quindi ok il buio però ci hanno investito e si vede hanno capito che questo meccanismo può funzionare hanno annunciato anche un intero extended universe di roba quindi ci stanno a livelli che solo Sharknado ha usato tanto per dire una saga cult quindi che devi fare allora esce al cinema o esce un'altra volta su dove va questo beh dipende perché in America escono tutti al cinema ora bisogna si dice che Winnie Poo 2 arrivi al cinema in Italia ad agosto pensa un po' ma sai che quasi quasi quel pomeriggio che c'è niente che ti va di buttare il cervello in uno scatolone ma va bene pure e poi anche ogni tanto ci vuole di buttare un pomeriggio quindi potrei fare la follia di vederlo tanto dico che non li vedo poi li vedo sempre quindi sì alla fine lo so ci vedo sto bambi zombie va bene così tanto che devi fare ma a posto così allora io ringrazio tutti Henry come sempre grazie tantissimo dell'invito i cartelli di Calavat ringrazio sono vado fiero che sono riuscito a utilizzarli tutti ce li avevi per qualsiasi occasione quindi complimenti saluto Ignazio ovviamente Kratos anche se non c'è un saluto a quelli che non ci sono stati quindi vabbè ricordiamo così e soprattutto alla fine ce l'abbiamo fatta a pasta live quindi sono contento ciao a tutti ragazzi ciao buonanotte ciao Francisco passiamo una bella serata anzi buonanotte ciao caro ciao comunque comunque quanto bello ecco se è andato mentre gli facevo i complimenti stavo dicendo Maxine allora che cos'è Maxine Maxine è il terzo capitolo di una trilogia horror particolarmente chiacchierata negli ultimi anni con gli ultimi due film che hanno avuto un grande successo certo non è che sono stati tra i più grandi horror tra i horror con il maggiore incasso degli ultimi anni però comunque entrambi sono costati un milione di dollari ne hanno fatti 15 quindi diciamo che la A24 è molto soddisfatta ma soprattutto questi film sono molto amati dal punto di vista della critica perché praticamente il primo film parlava semplicemente di dei giovani che stavano girando un film porno si ritrovano nella casa di due anziani gli danno il permesso di girare il film porno ma quando meno se lo aspettano questi anziani impazziscono e cercano di sterminarli mentre invece il secondo film è un prequel che racconta la storia della donna anziana però giovane negli anni 50 il primo è un omaggio allo slasher degli anni 70 richiamando tante opere come non aprite quella porta mentre il secondo è un omaggio anzi non è anche negli anni 50 negli anni 40 è un omaggio alla Hollywood classica richiamando addirittura il mago di Oz Ty West è stato salutato come un autore del cinema horror molto particolare io il primo il primo X a sexy horror story lo amo tantissimo penso che sia veramente uno dei migliori horror degli ultimi anni la tensione è gestita benissimo mostra uno sfondo sociale molto molto interessante ti parla praticamente di questa anzianità che si sente sola e abbandonata e che può ancora fare qualcosa ha delle ispirazioni poi ve lo dico abbiamo appena finito di parlare di Joker si capisce da X a sexy horror story e da Pearl che il buon che il buon Ty West è fissato con Joker infatti lo omaggia nel primo film addirittura con la danza ecco che richiama alla cattiveria del della dell'antagonista quindi però vabbè ho parlato di Joker ma ci sono tanti omaggi al cinema ai cult e ai classici dell'horror quindi questo terzo film è un sequel di X a sexy horror story che mostra la protagonista che aveva il sogno di diventare una grande star del cinema dopo essere stata già una star della pornografia è a pro da Hollywood a me piace molto il fatto che io sono d'accordo con chi l'ha detto nei commenti ovvero che il film sembra un omaggio ai gialli di Dario Argento e infatti la fotografia è molto bella così come si sente questa questi colori anni 80 questa pioggia questa oscurità mi piace c'è questo stalker questo questo serial killer di donne a Hollywood e allo stesso tempo mi piace il fatto che la cara la cara Maxine abbia un passato abbia ancora l'ombra di quella strage che ha dovuto affrontare che si ripresenta anche perché Maxine aveva già un passato misterioso nel primo film che era collegato ad una specie di setta quindi sono curioso di vedere visto che il primo film criticava un certo contesto tra la continua distruzione tra i giovani e la vecchiaia il secondo criticava i giovani che non hanno futuro il terzo invece sono curioso di vedere se mi critica proprio l'industria di Hollywood e mi fa tante belle cosine poi dal punto di vista visivo sembra bellissimo la regia sembra fantastica Ty West tecnicamente non mi ha deluso il primo lo amo Pearl secondo me scricchiola molto di più e io lo reputo carino perché secondo me ha tanti difetti e in certi punti secondo me è troppo eccessivo rispetto a X a sexy horror story ma sono molto fiducioso di questo Maxine allora signor Alex cosa pensa io non so se lei ha visto i precedenti film di questa saga horror no allora il fatto è questo quando tu mi hai mandato su Instagram gli argomenti di questa live c'era sta roba ho detto che cazzo è l'ho guardato ho detto ok però mi sento spaisato ho guardato su Wikipedia è il terzo di una trilogia io ah cioè io non avevo mai sentito nominare neanche gli altri due precedenti che erano un bazzico nei posti giusti a quanto pare ma anche perché io non sono un appassionato incredibile di horror cioè a meno che non siano davvero una merda come Winnie Pooh sangue e miele o capolavori come il primo show però invece questi che stanno non dico nel mezzo però che magari non sono chiacchierati magari addirittura dai giornali e cose varie non quindi l'ho visto e posso solo dire mi piace la fotografia e ho detto ma mi sembra vecchia mi sembra una cosa una filigrana strana infatti siamo nell'85 ho fatto ah vedi era tutto calcolato quindi niente mi fa piacere per voi io oggi ho scoperto che esiste questa trilogia e viva il porno vabbè quello sempre nessuno l'ha mai messo in dubbio invece non so il signor Calamat che esperienza ha con i film precedenti di Ty West ma trailer carino però al contrario del signor Alex qua sotto io non l'ho scoperto oggi che è il terzo capitolo di una trilogia l'ho scoperto adesso che l'ha detto Andrea perfetto cascato completamente dal pero non avevo idea benissimo ah che meraviglia trailer carino che devo dire sono rimasti gli ospiti giusti per queste no ma io avevo chiamato anche chi l'aveva visti che però purtroppo non si sono presentati ma vabbè sono cose che capitano ma vada signor Calamat vada quindi buono non è che c'è molto da dire sembra carino ma le piace l'ha messa in scena quello che vi hai mostrato questo horror misto un po' di grottesco con una spruzzatina di thriller che non fa mai male sì sembra carino però appunto ho detto ah magari lo guardo che adesso scopro che devo recuperarmi ma guarda che in realtà tecnicamente andrebbe bene recuperare anche solamente il primo perché hanno gli stessi protagonisti mentre secondo un prequel con un altro protagonista anche se non si sa mai io consiglio sempre di guardarlo specialmente se apprezzate x sexy horror story va bene ok allora a questo punto visto che con questo trailer horror c'è molto spaisamento abbiamo parlato dell'horror d'autore di Ty West andiamo nella vera bellezza or nella grandezza or ma che cazzo è x dobbiamo parlare di bambi del puniverso avrei dovuto preparare un altro cartello con su scritto sparatemi nei coglioni allora l'ultima volta che il buon Alex è stato qua perché ormai Alex io non posso fare puntate su questa roba senza Alex non posso praticamente non chiamarlo mai e che culo aggiungerei ma ti giuro Alex è venuto qui la prima volta tutto che bello dai sì quindi ancora qualche film di questo universo e poi faccio il video sulla timeline per capire bene cosa succede la mappa concettuale con tutte le foto le puntine da disegno gli elastici allora come avevamo detto nella scorsa puntata del Cine Giornale in cui abbiamo parlato di questa bellezza incredibile il primo Winnie Pooh horror con protagonista con l'antagonista il celebre orsetto che diventa un pezzo di merda e ammazza tutti che è stato un successo commerciale pur essendo stato odiato da chiunque con 4 milioni e mezzo guadagnati su un vaggio di 100 mila dollari beati produttori allora io non sono cioè non è un'opinione che ho di soldo però questo devo dirlo mannaggia voi Rezzi perché l'avete nominato e premiato gli avete dato una pubblicità che non si sarebbero potuti neanche sognare beh questo è anche vero avete incoraggiato stronzi comunque comunque qual è il punto che dopo questo Winnie Pooh non solo fanno Winnie Pooh 2 e hanno anche annunciato Winnie Pooh 3 ma fanno praticamente il Pooh Universo ovvero fanno vari film con antagonisti queste creature horror molto cattive cioè questi personaggi dell'infanzia Peter Pan Pinocchio la bella addormentata che sono buoni diventano cattivi sono dei pezzi di me e dopo la fine avremo il crossover con Winnie Pooh che cavalca Bambi che è appunto protagonista di questo film adesso io voglio dire una cosa ho aperto il trailer dicendo ecco dai vediamo sta merda gigantesca sono pronto vedo il trailer e inaspettatamente ho dei complimenti da fare non me lo sarei mai aspettato guardando il trailer per un semplice motivo allora a parte il fatto che mi piace il soggetto ovvero perché Bambi è cattivo gli hanno ammazzato la mamma da piccolo è cresciuto vuole esterminare tutti gli umani è proprio il soggetto che sogno io da quando sono piccolo quindi devo dire che è adatto è abbastanza geniale non rivedremo più Bambi che urla mamma dove sei con gli stessi occhi esatto ma la cosa che mi ha sorpreso è la qualità degli effetti visivi con cui si mostra Bambi perché allora ovviamente non è una CGI irrealistica perché quando Bambi accappotta l'auto si capisce che è finto assolutamente però il look della creatura e anche il primo piano in cui si mostra che ruggisce è convincente nel tipo di film che è nel senso che è un film che è costato meno di un milione di dollari se non pensiamo a quello che potevano fare la CGI che si vede è miracolosa che poi sono anche furbi perché probabilmente tutte le scene con Bambi saranno di notte e quindi la CGI in maschera ovvio figure che se lo mostrano di giorno questo è lo stesso stupore che ho avuto con il trailer di Winnie Pooh 2 in cui vedevamo questi creature questi make up prostetici per realizzare i cattivi di Winnie Pooh e di Pimpi tra l'altro addirittura il sequel disconosce il primo film di Winnie Pooh nel senso che nel secondo dicono che quello che noi abbiamo visto nel primo capitolo era il film amatoriale tratto dalla vera storia di Christopher Robin infatti l'attore è diverso in modo che possono avere la scusa si inizia davvero da questo va bene che cosa però questa cosa mi interessa per un motivo ora io non è che sto per aspettarmi dei film grandiosi perché io dico sempre il budget aumenta però se i registi sono dello stesso livello del primo del primo regista che non aveva idea di come cazzo si metteva una macchina alla presa sti gran cazzi però il fatto che possano fare delle opere che sono delle troiate gigantesche che non si prendono sul serio con un budget che sia che permetta una cura minima negli effetti speciali in modo da far apparire le creature convincenti otterrebbe un effetto più divertente io soprattutto dopo l'annuncio del puniverse che mi fa capire la natura demenziale del mio progetto le guardo con più divertimento con più follia e mi piace questa cosa che questi registi dipendenti con zero lire riescano a trovarsi un'industria perché mi ricorda tanto le follie per quanto ovviamente siano degli artisti molto più bravi e molto più capaci della troma ovvero che mentre Hollywood va avanti nel frattempo ci sono dei registucoli con zero euro che riescono registucoli poi vabbè ragazzi non avete capito cosa intendo con zero euro che vanno praticamente in avanti e ultima cosa con mia grande sorpresa Willy Pooh Sangue e Miele il secondo è stato apprezzato molto più del primo perché il primo aveva su Rotten Tomatoes la percentuale di gradimento del 3% il secondo ha il 50% con i voti che vanno tra il 5 e il 6 però ovviamente è 50% non è che lo amano ma rispetto al 3% che si era beccato il primo perché molte delle critiche positive dicono che diversamente dal primo film che si prende terribilmente sul serio il secondo è molto più curato dal punto di vista estetico e abbraccia molto di più la sua natura di commedia horror di serie C quindi oh magari può uscire fuori qualcosa di divertente e magari tecnicamente hanno delle sorprese contestualizzato ai budget che hanno perché altrimenti l'avrei già signor Calamat perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo viva la merda ragazzi ragazzi io ho riso quando ho visto il trailer di Babby porca puttana quando ho visto sto cervo della scabrosa laguna qui come cazzo vogliamo chiamarlo ribaltare la roba e ruggire manco fosse l'uomo lupo cazzo mi sono piegato in due da ridere ma come cazzo ci può ma il bello che loro che hanno fatto questo film starebbero pensando aspetta è un complimento o ci sta c'è probabilmente questo pensamento un po' tutti e due probabilmente non ho il minimo interesse ma proprio c'è ragazzi vivo in un paese in cui come minimo bisogna spendere 15 euro per vedere un film al cinema voglio spenderli per cose belle santo cielo io vedi il comodo abbonamento io il comodo abbonamento del The Space finché me la manda buona è benissimo il The Space più vicino a me ha 40 minuti di macchina ecco perfetto quindi che cazzo devo dire perfetto c'è Bambi versione zombie che ribalta un cazzo di macchina camioncino con le corna e poi ruggisce un cervo che ruggisse anche perché io ho letteralmente un parco dove ci sono tenuti i cervi a 5 minuti di macchina da qui e sto presente come sono fatti che meraviglia stupendo certo purtroppo ce n'è e lo dico che ogni fibra deve essere spinta dal vomito ad ammetterlo ma c'è un film di questo universo che sarò costretto a vedere ah Peter Pan vediamolo un po' nella sua bellezza eccolo lì ah no aspetta non è Peter Pan è una riproduzione quello al centro è una riproduzione della statua di Peter Pan che c'è a Kensington Gardens ah ok ecco perché non lo riconoscevo perché non è basato su quello di Disney o altro sì 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 ok che verrà che sia chiaro probabilmente mi vorrò cavare gli occhi dopo che l'avrò visto però che tra l'altro l'idea di un film horror di Peter Pan sarebbe anche fichissima se è fatto bene però ripeto un cervo che rungisce ma di che cazzo stiamo parlando ricordo che nel live action horror di Peter Pan Trilly sarà una tossico dipendente da cocaina che la scambia per polverina magica benissimo eh signor eh signor Alex lei invece cosa pensa di questo trailer intanto ho immaginato il film crossover con Peter Pan che cavalca Bambi fatto di Bamba e quindi ah ecco fra l'altro per il fatto che il film di Peter Pan sia una merda so già che Peter Pan non sarà un bambino è già solo per quello metà del fascino andrebbe andrebbe a far scoppere eh sì allora per me questo teaser ha tutto quello che mi serviva per capire che sarà un grande film perché si prendono maledettamente sul serio e questa cosa mi fa pisciare sotto perché non è che comincia subito non so con Bambi incazzato no non possiamo dire incazzato come una iena no no c'è il build up proprio ti costruiscono la tensione no no c'è questa c'è questa quaglia che fa da bersaglio e il tizio che si allena a sparare poi ma tu hai mai ucciso un cervo e questo vecchio che guarda l'orizzonte sì una volta e poi quindi è lui che ha ucciso la mamma di Bambi svendetta quindi già c'è questa lore che cominciamo ad apprendere no interessante il cervo che rugisce tipo il tirannosauro bellissimo e io questo film me lo immagino come praticamente la versione alien dei boschi poi immaginatevi questi cacciatori sperduti che sono lì con il cervo che non si sa dove cazzo spunta e man mano muoiono una alla volta dice dov'è esce dai fottuti alberi no sparate sparate e quindi io spero che sia un bel film poi appunto la computer grafica per cortesia non è bellissima però si contestualizza ovviamente sì 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 anzi io nella live in cui c'era tutto lo schema dell'universo io pensavo che avrebbero usato un pupazzone qualcosa invece a quanto pare no e quindi niente viva Bambi che poi non è zombie è semplicemente incazzato nero insomma c'è tutta sotto la mascella che sembra pseudo decomposta ma di quanto si è arrabbiato no è tutto boh non lo so l'ho visto una volta su teaser magari è anche vero ma tanto loro mi possono fare anche Bambi che scorreggia fuoco a me non frega niente questo è il bello io prendo questi film come prendo i Fast and Furious cioè non mi interessa che abbiano una logica l'importante e il divertimento quindi il problema è che Fast and Furious vogliono averci una logica mannaggia a loro vabbè Vin Diesel che pazzo ma fuori di testa completamente che poi che poi in realtà quando c'è in Fast and Furious 9 quel momento drammatico in cui lui ripercorre l'interno della sua anima pensando al suo fratello ecco il fatto che Fast and Furious abbia una una parte riflessiva particolarmente profonda è così assurdo che fa il giro e anche in quel momento io mi diverto come un matto poi è bellissimo vedere le interviste del cast cioè sono tutti per divertirsi palesemente Vin Diesel è convinto di fare Shakespeare esatto sì sì ma tra l'altro nel 10 è bellissimo quando è lì all'inizio film con Letty che dice nostro figlio anzi mio figlio perché tu sti cazzi mio figlio oggi mi ha detto che non ho paura di nulla ma di qualcosa ho paura di perdere la famiglia ho detto vabbè bravo bravo un genio bello ma prima di salutarci concludiamo con l'ultima notizia di questo cinegiornale sono felice che siamo riusciti a parlare di bambi perché volevo dare la precedenza in realtà un'altra possiamo andare avanti per favore prima possibile ecco Fantastici 4 Giulia Garner sarà Sasha Bull la variante femminile di Silver Surfer anche se in realtà dobbiamo specificarlo bene ho messo il titolo giusto per attirare allora che succede l'Hollywood Reporter ha confermato che l'attrice Giulia Garner interpreterà il Silver Surfer del film nei fumetti Shalla Bull come cavolo si pronuncia perdonatemi è praticamente la fidanzata del Silver Surfer maschile prima che lui diventi l'araldo di Galactus solo che in versioni alternative è lei che al posto del suo fidanzato diventa l'araldo di Galactus e ottiene i suoi poteri quindi in questo Fantastici 4 ci sarà questa versione sua ora ci sono questa non è l'unica notizia di cui parlare del film dei Fantastici 4 prima di tutto è stato rilasciato un poster con la torcia umana che mostra la torcia umana in grande stile mentre vola e nel poster vediamo una versione futuristica della città degli anni 60 e allora la prima cosa che fanno pensare è ma perché se è ambientato negli anni 60 quella città sembra steampunk sembra arrivare da un'altra dimensione perché può darsi che questo Fantastici 4 sia veramente ambientato all'interno di un altro universo e alla fine del film vedremo i Fantastici 4 che attraverseranno un portale faranno viaggi nel tempo non si sa e finiscono nella nostra terra Marvel e allora un altro tassello alle guerre segrete inoltre la Marvel ha praticamente rilasciato cioè scusate ha confermato quali saranno i fumetti da cui il film prenderà ispirazione adesso ve li leggo nel senso prenderà spunto appena perché sappiamo come funziona per queste trasposizioni più che più che trasporre si prende proprio spunto da alcune storie vi si mesciappa un po' e via è giusto infatti ricordare anche questo comunque le storie sono il primo numero dei Fantastici 4 degli anni 60 quindi stile giocoso anni 60 quello che racconta le origini anche se hanno già confermato che il film non sarà una storia di origini quindi avremo degli accenni poi avremo Fantastic 4 il primo numero di Life Story un altro film che vede un reboot dei fumetti che vede le loro origini attraverso un altro punto di vista immagina le loro vite quotidiane all'interno sempre degli anni 60 e poi abbiamo non uno non due non tre ma tre fumetti con Galactus al suo interno e Silver Surfer abbiamo infatti l'arrivo di Galactus il giorno del destino e la saga di Silver Surfer ora c'è Silver Surfer tre di questi fumetti c'è Galactus ragazzi è scontato al 200.000 per mille che questo film avrà come antagonista Galactus la cosa mi piace oppure no beh considerando che Galactus noi non l'abbiamo mai visto perché io non disprezzo i Fantastici 4 Silver Surfer di Team Story anzi è un film carino che mi diverte per me è anche meglio del primo film che per me ha più problemi ma quello quel Galactus capisco volendo fare realistico ma porca minchia l'idea di vederlo in versione Marvel Cinematic Universe con il divoratore di mondi che arriva con i Fantastici 4 che combattono contro Silver Surfer che magari si deve convertire per aiutare l'umanità raga è una cosa che mi piace poi gli attori mi convincono l'attrice non la conosco perché non conosco appunto le opere che ha fatto in precedenza ma comunque io ho grande fiducia cioè con quello che stanno costruendo che poi mi piace anche l'approccio con cui la Marvel si sta presentando perché addirittura non sono ancora iniziate le riprese ma già fa i poster per speculare comincia a dire quali storie si sono si sono ispirati quindi è molto aperta nei confronti dei fan mi sembra un rito sembra io sento di respirare le atmosfere dei primissimi film della Marvel con le origini quindi non sarà Deadpool e Wolverine a salvare l'universo della Marvel perché richiama al passato perché comunque si rifà al mega eventone ma secondo me è il film dei Fantastici 4 quello che può veramente far capire che la Marvel può fare ancora qualcosa può dare ancora qualcosa può ancora andare oltre quindi io sono estremamente fiducioso tutti questi elementi mi fanno hypare tantissimo mi piace l'idea della terra multiversale mi piacciono gli attori adoro il fatto che ci sia Galactus non vedo l'ora ho l'hype al mille per mille ancora non ho visto il film intanto ecco qua il poster incriminato che mostra la città futuristica signor Kalamat cosa pensi di tutto questo che abbiamo visto di tutti questi dettagli sui Fantastici 4 mi girano i coglioni perché i primi rumor sul Silver Surfer Femilia volevano Agna Taylor già nel ruolo porca puttana vabbè comprendo che lei preferiva lei come attrice annaccio però vabbè no se siete veramente erosico un po' ma come un maledetto per sta cosa però vabbè me la farò passare questione di cuore detto questo boh vediamo se vogliono riuscire a fare quello che il disastroso i Fantastici 4 e i Silver Surfer non riuscire a fare i tempi hanno la la mia approvazione dai però c'è un problema mio personale oltre al fatto di Agna Taylor Joy ovvero per fare un'essitazione colta mi sono praticamente staccato dall'MCU l'ultima fase non era un bello spettacolo ma ho fatto anche un po' schifo comunque io non penso cioè fammi capire non ti piace il fatto che sia ambientato in un'altra terra parallela quello neanche parrossalmente perché più che altro ormai io multiverso MCU sono due cose parole due concetti non ho capito tu stavi parlando della tua percezione Marvel o parlavi del fatto che i Fantastici 4 si vergognassero di appartenere all'MCU allora no 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 perché io mi sono staccato dall'MCU ormai non guardo più i loro prodotti cioè il mio canto del cigno è stato ed è stato un bel canto del cigno sia chiaro però siccome in quel periodo mi stavo disnamorando dell'MCU i prodotti non mi piacevano eccetera ho detto va bene questo è l'ultimo è stato Guardia In 3 che ho adorato mi è piaciuto tantissimo quindi quindi non c'è questo che io al momento di MCU non c'ho voglia per nulla e poi appunto il fatto che loro possano essere le loro avventure le loro vicende possano essere ambientate in questa terra alternativa ancora di meno perché mi spiace a me l'universo il multiverso nell'MCU ha già scassato tre quarti di minchia hanno pieno le palle di sta roba che è solo una scusa per far carnevalate cambia la definizione ogni cazzo di volta che viene mostrato in un film per carità è esattamente così anche nei fumetti però questo non vuol dire dobbiamo fare questa cosa anche anche nei film quindi sembrano premesse di base neanche malaccio però se devo soppresare il tutto non è un cioè non penso che sia un film che non mi stupirei se non lo andassi a vedere ecco non è un film che attendo cosa posso dire anche però bisogna anche ricordare che Fantastici 4 sarà uno dei primi film che mostreranno la prima linea guida della Marvel completamente diversa dalla prima quindi una possibilità per carità per carità per carità non ho detto che a priori non lo vedrò però c'è da dire che il cast mi piace molto quello assolutamente sì staremo a vedere però non è di sicuro nella mia lista prioritaria di film da attendere ecco più che altro io sono contento più non tanto per i Fantastici 4 ma per il fatto che la loro introduzione implica che probabilmente nell'MCU a breve tra qualche anno magari potremo vedere il Dottor Destino che è un villain fumettistico che io amo molto quindi magari però ripeto sono assolutamente distaccato e freddo nei confronti dell'MCU al momento quindi non vediamo concorro però pienamente con quello che hai detto tu Andrea questo è il film in cui la Marvel si gioca tutto perché se sto film va male so cazzi amari Deadpool alla fine no è una cosa un po' a parte che un po' separata dal resto fatta appunto per buttarla veramente in cacciara completamente quindi anche se secondo me Deadpool 3 farà bene questo invece è un film importantissimo non solo perché sarà un punto rappresenterà quello che speriamo potrebbe essere un punto di svolta nell'MCU ma è sostanzialmente è il dare a uno dei gruppi di supereroi più importanti di sempre se non il più importante di sempre la dignità che ancora al cinema non hanno avuto sì infatti vero è una responsabilità molto grande perché non è come per esempio gli X-Men perché gli X-Men fra alti e bassi i loro grandi film li hanno avuti fantasy 4 no hanno avuto il primo che era mediocre il secondo che mamma mia e poi Trank non l'ho visto l'ho saltato a pie pari io non l'odio come tanti ma ragazzi dai mister fantastic allungava il braccio fuori dall'inquadratura perché non avevano non sapevano mostrare l'effetto che cazzo vi aspettavate su la scena non me la ricordavo è il primo teaser se non sbaglio visto il fantastico che allunga il braccio così davanti allo schermo e poi taglia e finisce il trailer io voglio ricordare che prima dei fantastici 4 di Todd Phillips come si chiama di Team Story ecco c'è il capolavoro prodotto da Roger Coleman negli anni 90 ho visto solo qualche foto di quello non l'ho mai visto una sciccheria con tutto che io con quelle di Team Story mi ci diverto il primo per me è mediocre il secondo è carino però non sono grandi film questo di certo ecco cioè sulla carta potrebbe anche essere interessante ma ci sono delle appunto delle premesse che mi fanno storcere il naso ripeto a me questa idea di loro in una terra alternativa non piace perché il fascino del MCU e di Super Roy in generale è mostrare gli eroi che vivono nel mondo di tutti i giorni e non è neanche una cosa come che ne so nell'MCU loro sono erano attivi negli anni 60 poi per un barbatrucco che ci scopriamo sono stati non lo so rimasti nella zona negativa per 50 anni che per loro però sono stati pochi secondi sono tornati però è anche vero questa cosa importante punto 1 va bene che c'è Capitan Marvel però Capitan Marvel appunto non si fa vedere dal mondo e quando arriva il primo film degli Avengers lo dicono ovvero che quando arrivano i supereroi la gente è sconvolta perché è un concetto completamente nuovo ma poi come se non avessero già messo retcon su retcon nell'MCU in passato ma al di là di questo l'alternativa la spiegazione della terra parallela permette loro di sfruttare proprio l'essenza dei fumetti primi ovvero il fatto che i Fantastici 4 sono Fantastici 4 perché sono gli unici ad avere superpoteri quindi può essere un vantaggio per mostrare ancora di più la loro straordinarietà sì però da un lato però la loro straordinarietà potrebbe anche venire di meno perché in un mondo pseudo futuristico come questo così particolare non lo so a me non c'è qualcosa che non mi convince e in più unito al mio attuale disinteresse per l'MCU non è un progetto per cui riesco ad avere il minimo hype mi dispiace cioè parzialmente per quanto trovi incasinatissimo il progetto di Gann di CU ho più interesse per quello perché almeno è qualcosa è una cosa nuova deve essere esatto esatto per quanto ho incasinato è qualcosa di nuovo e poi almeno ci sono i progetti all'interno che posso trovare interessanti cioè Superman io lo sto aspettando tantissimo vai Gann contiamo tutti su di te il film Supergirl anche potrebbe essere interessante probabilmente non ho assolutamente interesse per Batman The Brave and the Bold però cioè per cui nella sua assurdità e poca chiarezza quel progetto mi sembra più accattivante rispetto allo stato attuale dell'MCU non si preoccupi non si preoccupi invece il signor Alex anche a me no è vero a me piace a me piace a parte che ho sempre pensato wow prima di morire mi piacerebbe vedere un film bello sui Fantastici Quattro è sempre stato uno dei miei sogni opposto che quelli di Team Story vabbè sono parte della mia ah io il primo lo vidi al cinema ai tempi e quindi no infanzia quanto è che è uscito nel 2000 nel 2005 se non erro 2005 il primo 2007 il secondo vabbè comunque i due film sono parte della mia gioventù quindi nonostante per me invece se il contrario per me il primo è carino il due un po' si perde comunque li portano il cuore quell'altro neanche lo consideriamo perché è orrendo invece qua sento che forse ce la possono fare posto il fatto che secondo me anche se questo andasse male comunque ci sono Secret Invasion dei Kang Dynasty che la gente non va a vederli perché c'è per carità però non puoi far vivere mi fa piacere che la serie con Nick Fury sia diventato il punto cardine finale del Marvel Cinematic Universe signor Alex Secret Invasion ha detto ah Secret Wars vabbè tutto segreto è qua è vero signor Alex ha ragione nel ricordare Secret Wars e come si chiama Avengers The Kang Dynasty sicuramente quelli entrano bene a prescindere però c'è bisogno di persone che il pubblico però non puoi sorreggere un universo cinematografico con solo due film che vanno bene se no va a finire come la DC che c'era il film singolo che andava bene allora continuiamo ad andare avanti che questo film è andato bene poi andava tutto in merda sarebbe una stabilità infatti cioè paradossalmente infatti l'MCU il suo futuro non se l'è ha rassicurato col primo Avengers ma col successo dei film post primo Avengers perché ricordiamo che i primi film singoli sull'MCU non erano andati benissimo non erano andati malaccio però neanche questo successone incredibile salutiamo Francisco in chat ciao salutarci da quanto tempo ciao no a me in realtà non dispiace che sia che siano chiaramente in una terra alternativa ma per il semplice fatto che se no finiva come gli eterni che a me è piaciuto come film però una scusa dietro l'altra per giustificare il perché non hanno non sono intervenuti mai invece questi sono degli anni sessanta dici perché non si è mai sentito parlare di loro l'unica soluzione è farli andare in una terra alternativa e infatti poi in Secret Wars immagino che si collegheranno anche per questo perché lì collideranno tutti i multiversi con l'occhi che sta lì a guardare seduto sul trono immagino e quindi ci sarà un casino in realtà sono abbastanza convinto ho delle buone sensazioni poi anche il cast Pedro Pascal che nonostante ormai lo stiamo utilizzando un po' troppo resta comunque un bravo attore poi anche la Shalabal chi se ne frega cioè Silver Surfer il suo punto di forza non rientra nel genere ah ecco a quelli che si lamentano del genere avrete come personaggio una donna nuda a conti fatti quindi vabbè ma queste sono le stesse persone che quando c'è una ragazza che ha ma appunto è bellissimo come appunto quando si parla di queste cose nei film cazzo sembra di essere tornati ai tempi elementari quando bisognava mettersi in cerchio per la lezione di ginnastica tutti i maschi da una parte e tutte le femmine dall'altra che schifo le femmine mamma mia che paura le donne speriamo che si deve essere maschio non voglio toccarle stami lontano vabbè non parliamo che ieri ho litigato con una cerchia di imbecilli che si lamentano che Giulietta a teatro è interpretata da un'attrice nera volevo picchiare no vabbè la violenza mai però che siano delle cerebrali ogni tanto qualche berlata sul culo serve vabbè mi dissocio la violenza youtube mi cancilla e quindi no non so che altro dire niente cioè non vedo a parte che esce l'anno prossimo insieme a superman insieme più o meno si faranno tipo due o tre settimane l'uno dall'altro tre settimane di distanza quanto mi dispiace per superman andrà mamma mia peccato peccato ciao gun riprovaci un'altra volta vediamo con calma meglio aspettare per carità poi se finalmente riesce a fare dei film belli sono contento ma a me come James Gunn sta gestendo tutta sta roba ah l'ho detto anche io è confusissimo ciao Ivano Divano ciao carissimo e quindi niente viva i fantastici quattro così finalmente posso morire no si scherza no no si scherza e niente ah e tra l'altro da quello che so si rumoreggia che qui ci saranno anche ci sarà anche il figlio oh questo non lo so vedrete si vociferava è vero si vociferava cosa che non mi darebbe fastidio anche perché cioè ci stanno i fumetti anche cioè nel senso non è una roba però più di uno anche e il cinema non si è mai visto quindi dai mettiamoci anche il figlio di Sue e Richards tra l'altro una cosa che devo dire è bellissimo il fatto che abbiamo rilasciato il poster nella giornata del 4 aprile 2024 che diviene 4-4-2024 per mostrare un poster dei fantastici 4 cioè è stupenda come cosa loro stavano aspettando solo questo giorno quel giorno per fare questa cosa tra l'altro la cosa bella è che l'anno prossimo esce nel 2025 i fantastici 4 quindi nell'anno del decimo anniversario del primo film di Team Story come ventesimo anniversario hai ragione ventesimo scusate scusate ventesimo come Daredevil Born Again che viene praticamente trasmesso a dieci anni di distanza dalla prima stagione di Daredevil è fantastica sta cosa è meravigliosa ok con questo direi che possiamo terminare il cinegiornale abbiamo fatto alla fine abbiamo approfittato anche per finire con altre belle notiziole e direi che possiamo terminare qui e invito tutti gli utenti a rimanere a rimanere sincronizzati perché martedì sera alle ore 21 faremo la live su Ghostbusters il regno di ghiaccio quindi mi raccomando rimanete guardate avremo altre discussioni sui film non mancate benissimo e con questo vorrei dire a tutti quanti voi di seguire lo scorso cinegiornale e di seguire l'ultima live in cui abbiamo parlato di Godzilla e Kong il nuovo impero e e cos'altro volevo dire ah sì voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito durante questa diretta e voglio ringraziare i miei cari ospiti a cominciare dal caro Calamat ringrazio io te Andrea per avermi invitato è stata una gran bella serata mi sono divertito tantissimo il cinegiornale è sempre un ambiente imprevedibile dove non sai mai quello che ti capiterà è una scatola di cioccolatini come direbbe il caro vecchio forest gap tranne ovviamente per un solo fattore vai a fare in culo un'altra volta e tra l'altro signor Calamat c'è un utente il buon Axel che dice prima di chiudere voglio dire una cosa Calamat ha una voce simpatica potrebbe essere un bravo doppiatore sto facendo un corso di speakeraggio quindi e ringraziamo ringraziamo il signor Alex per essere stato qui con noi comunque ringrazio tra l'altro Axel che è veramente un bel compiletto comunque sarebbe stato bellissimo se avessi detto infatti sto facendo un corso da panettiere tipo che non c'entrava niente sarebbe stato bellissimo ma comunque vi ringrazio per l'invito è stata una bella serata si è parlato anche di cose che ho scoperto oggi stesso Calamat l'ha scoperto tipo dieci minuti fa quando hanno detto il terzo capitolo della trilogia cosa? ci mi sono perso si si il record l'ha battuto Denise quando le ho chiesto di parlare del trailer di The Penguin e lei mi dice in diretta non l'ho visto non mi riferisco un cazzo passa agli ospiti più bravi di me io va bene ok abbiamo già ciao Denise un saluto vai Alex e niente quindi buonanotte a tutti iscrivetevi a questo canale dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti entro il 2025 si mi raccomando guardate tutti i video e mettete mi piace mi piace io invece quando guardo i video di Andrea li mettono e non mi piace grazie e adesso vuoi andare a dormire io mi recupero la prima puntata della nuova stagione del Jalapas Show ok pensavo di andare a recuperarti il primo film no più iscriveranti grazie Axel siete veramente molto gentili magari se arriviamo a 20.000 iscritti posso partecipare al comico di Napoli come content creator invece che solo come giornalista chissà ok comunque molto gentili ragazzi miei tra l'altro voglio ringraziare anche il buon Francisco e il buon Kratos che sono stati qui e poi ci hanno lasciati tra l'altro ci saluta il buon Francisco grazie caro Arkham e tra l'altro voglio ringraziare anche la Tana del Cinepilo e Diletta che dovevano essere qui stasera che purtroppo non si sono presentati a causa di imprevisti quindi grazie ancora a tutti quanti voi e ci vediamo ad una prossima diretta buonanotte ciao